Boom! Partiti! Mi aspettavo un taglio più corto fra il countdown e noi, ma partiti, eccoci qua, io sono Jacopo, questo qui è con il mio polpette, questa sera con noi c'è Alessandra, ciao Ale, e faccio partire anche la live di Instagram perché aspettavo sempre il conto al countdown di coso, come si chiama, di Twitch. Poi nel frattempo aspettiamo che arrivi gente perché in questo momento ovviamente non c'è mai un ammazzo in nessuno quando si parte, però per chi arriva dopo, o meglio per chi la vedrà indifferita, ah perfetto, c'è già gente su Instagram, ciao, ah perfetto, brava, Ale anche aggiungiti, Fuduzim, devi dirmi Fuduzem come devo pronunciare il tuo nome perché non ho assolutamente idea, comunque ciao. Bene così? No, comunque, per chi arrivasse dopo, Economia Polpette è un podcast di economia e questa sera parleremo con Alessandra che è una content creator anche lei e studentessa di economia pure lei, no, io non sono più studenti di economia ma lo sono stato, ecco la qua, adesso ci sei anche su... Eccomi! Perfetto, anche su Instagram. Aspetta, anche adesso devo aggiustare. Io volevo, allora, senza sti qui. Mi sono tagliato, ok. Ok. Bene, fatto, fatto. Ok, così ci vediamo in faccia. Bene anche a chi c'è su Twitch. Come sempre su Twitch non ho idea di chi ci sia, se non mi scrivete ciao non so chi ci sia, ciao anche Claudia che ci ha raggiunto su Instagram. Allora, di cosa vogliamo parlare questa sera? Questa sera vogliamo parlare di economia perché ce la montia a trovare, io e Alessandra a parlare di questa cosa, di come l'economia viene percepita in maniera, diciamo, un po' distante da chi ci lavora, da chi non lavora nell'economia, da chi non studia economia. Ecco, l'economia non è percepita nella sua complessità. Il nome si pronuncia Fouad. No problem. Ok. Perfetto, allora lo so. Ora lo so. E appunto, diciamo, l'economia viene percepita in maniera molto diversa, a seconda di quante conoscenze si abbiano. E diciamo che c'è molto di più di quello che uno può pensare di economia, quando appunto ne dice, e molto spesso si usa questo termine in maniera molto generica. Poi da lì vorremmo passare appunto all'università e a come si studia economia all'università e cos'è l'economia all'università e come viene percepita anche all'estero. Quindi, al di là del fatto che io ringrazio l'italiano di avere la parola economia per includere in sé una varietà allucinante di cose che non c'entrano con l'economia in altre lingue. E mi consente in questo modo di avere un podcast che si chiama Economia Polpette e non doverlo chiamare Economia Finanza Business Management a polpette. E quindi questo... Vento un polpettone. Esatto, vento un polpettone, è sempre molto difficile. Per fatto c'è Lorenzo, ciao Lorenzo. E quindi è comunque interessante vedere questa cosa. Ma Ale, tu innanzitutto introduciti perché ho parlato solo io per cinque minuti. Allora, ciao ragazzi, ciao a tutti. Io non vedo Twitch ma sto vedendo Instagram. Io sono Alessandra di Economai e studio economia attualmente a Roma. Ho fatto una penale in economia del turismo ma di questo vi parlerò più in là. Sì, sono veramente contentissima di fare questa live con Jacopo perché è stato poi il mio mentor e la persona che mi ha ispirato per l'apertura della mia pagina. E quindi sono veramente contentissima Jacopo di essere qui con te stasera. Te lo dico proprio a penale in mano. Grazie. Beh no, mi fa piacere insomma che poi appunto da Economia Polpette siano partiti altri e abbia dato incentivi anche ad altri a buttarsi insomma su questa cosa. Cioè a creare contenuti legati all'economia e a fare divulgazione di questo tipo. Quindi no, grazie a te. Comunque anche di aver accettato l'invito. Ne abbiamo parlato di fare qualcosa assieme qualche settimana fa e poi venerdì gli ho detto che non dici domenica facciamo una live. No, veramente così. Ci stavo all'azienda di domenica. Jacopo ma è venerdì. No, beh domenica. Ok Jacopo, domenica. Mi dicono che la voce tua non si sente tanto. Ok, io ti sento bene. Da Twitch mi arriva il commento. Allora, facciamo... Intanto ciao anche a chi si è aggiunto da Instagram. Devo dire che mi è poco collaborativo però Restream rispetto a Streamyard perché non mi arrivano i commenti su Restream ma devo guardarmeli direttamente da Twitch. Ok, Instagram si sente bene. Si sente meglio su Twitch? Giarde si sente meglio? Ditemi se i volumi sono a posto così intanto li aggiustiamo e poi possiamo andare avanti. Ok, allora, fra le altre cose, mi irrita un pelo questa cosa che non ci sono i commenti su Restream ma faremo in qualche maniera. Allora, bravo, splittami lo schermo. Perché così? Ok, penso sia il microfono, mi dicono. Si sente malino, non lo so. Si sente male ancora? Sì, non lo so. Tu sei con gli auricolari? Ah, ciao, ribomboclad. Ok. Boh, io ti sento... Ti sento bene. Se... Io purtroppo non posso sentirti in... Aspetta un attimo che facciamo una cosa... Io su Instagram mi hanno detto che si sente bene. Sì, 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 no, Instagram non è un problema. Anzi, fammi fare una roba che non ci siano rimbombi e doppi. Scusate che c'è... No, ok, non dovrebbe uscire niente. È distante, dicono. È sicura che non ti prenda magari il computer su... Ho cambiato e ho impostato gli auricolari. Adesso proviamo... Ok. Boh. Sono sempre di cose da sistemare, ma difatti poi lo si vive solo vivendo. grazie per la pazienza di chi c'è e anche di chi ci sarà in futuro e se la vedrà in questo momento. Schippate di 10 minuti... No, 10 minuti no, ma 30 secondi magari. Ok. Beh, dai, partiamo e poi l'aggiustiamo andando avanti. In corso d'opera dite, sì, se avete problemi, ovviamente. No, esatto, esatto, esatto. Ok, volevo sentire un attimo. Se riesco a sentire la tua voce perché nel frattempo ho messo... Sì, va bene. Allora, intanto spieghiamo che cos'è EconoMai. Ok, no, bravo. Dai, raccontati un po', così racconti un po' di te stessa e ci parli di chi sei tu. Soprattutto anche del tuo background, di cosa studi, so che studi Economia, so dove studi, ma chi ci sta ascoltando non credo che abbia la conoscenza che ho io di te. Allora, in questo momento sto studiando Professione Consulenza, che è un ramo di Management che fondamentalmente si occupa di tutta quella che definiremo poi essere Accounting. E in precedenza ho fatto un'azionale in scienze economiche, precisamente economia del turismo. Poi di questo vi voglio parlare più avanti. Volevo sformarmi un attimo sul fatto su che cosa ha spinto poi, dove è nata EconoMai. Ovviamente è nata veramente da Jacopo perché un giorno mi sono ritrovata a sentire il podcast su Spotify, che tra l'altro consiglio, quindi se fosse qui qualcuno che non lo conosce, Economia Polpette su Spotify. E riflettevo sul fatto, c'era una puntata, se non erro, sull'inflazione. E dico, cavolo, io sto studiando Economia da tre anni, so tante cose di Economia, ma com'è che io non sappia così bene l'inflazione come dovrei saperla? Poi Jacopo lo spiega in maniera semplicissima, quindi anche qualsiasi persona, veramente mi ha stupito da quanto fosse semplice, vabbè, fin lì c'ero. Però, cioè, io cavolo, studio Economia, io lo dovrei sapere nel minimo dettaglio. E allora là mi sono detta, oltre a me, persona che studia Economia, che poi dopo tre anni, per problematiche di cui poi parleremo, si trova che probabilmente a non conoscere delle cose che dovrebbe assolutamente conoscere, come si sta dino, non tanto da persona che studia Economia, ma come si sta dino. E quindi ho detto, vabbè, facciamo una pagina, ogni volta che mi deve informare per me, a questo punto cerco di informare anche altri. E quindi nasce così, semplicemente perché ci sono delle cose che purtroppo non sono scontate nemmeno per chi studia Economia, perché vediamo e vedremo che Economia è un termine molto ampio e che quindi Economai si propone di portare, far diventare accessibile a tutti. Che poi è un'idea abbastanza che se ce l'avessi avuto io quando ero studente, non sarebbe stato male perché è un modo anche per ripassare, è una roba che ho notato facendo i podcast e parlando di Economia con l'obiettivo proprio di parlare con chi non ne conosce, quello che ho imparato è stato proprio che se per spiegare una cosa in maniera tale che sia comprensibile agli altri, devi averla capita tu, se tu non la capisci è difficile che gli altri capiscano. E di fatti io chiedo sempre, quando faccio dei temi che non sono propriamente il mio core che ho dovuto imparare, per vedere se li ho capiti bene e quando faccio la puntata li faccio ascoltare e dico si capisce, perché non è detto che si capisca esattamente quello che ho detto. E quindi no, lo capisco benissimo ed è ottimo anche da studente, ti dà di più e anche l'approfondire, perché poi lo vedremo anche quando si capisce avanti. Sì, Castroni, ogni volta che tu studi un argomento per la prima volta, perché a 22 anni ancora spesso ti capita di studiare una roba per la prima volta, quasi sempre, e tu dici, io questo me lo voglio fissare da qualche parte, che io proprio apro, entro lì e so tutto quello che devo sapere in merito a questa cosa, quantomeno in grandi linee, perché poi volendo ti potrebbe approfondire di tutto. Quindi secondo me è quello, è un po' una biblioteca, un po' una libreria, è un po' un... cerca su internet trovi questo, però con documenti, cioè c'è il lavoro dietro ad ogni posto, tu lo sai, c'è il lavoro. Sì, sì, poi diventa esattamente un lavoro starci dietro, però è utile per imparare, è utile anche per gli altri, poi insomma diciamo che l'economia purtroppo viene percepita in maniera molto superficiale, a volte approssimativa, e viene anche narrata, secondo me, in maniera non così bella e così bene e molta gente appunto pensa che bisogna avere determinate conoscenze per capirla, per entrarci e che nell'economia ci stia dentro tutto e tutto sia economia e non ci siano... cioè più che altro uno che studia economia sa tutto, tutto quello che ha a che fare con l'economia. Ciao Alvise. Cosa che, diciamo, l'economia, spieghiamolo un po', ed è un po' il senso della serata del parlare del qual è il tema e perché parliamo di economia in senso ampio, è un po' il vedere che cos'è l'economia e di cosa si parla quando si parla di economia, cosa c'è dentro questo enorme calderone. Io di solito quando cerco di spiegarla a un profano uso la medicina, che non so quanto aiuti, perché magari a me aiuta perché conosco un po' il ramo della medicina, ma non so gli altri come la sappiano, però economia è un po' come la medicina. C'hai i medici che studiano i farmaci e tutte quelle cose là e poi c'hai i chirurghi che aprono le persone. Sono tutti e due i medici, ma se tu chiedi a un medico di aprire una persona e curarla, non lo sa fare, tanto uguale un chirurgo sa a grandi linee appunto come funziona il corpo umano anche dal punto di vista medico, però non è specializzato, quindi non si metterà a dare delle stesse, cioè non avrà le stesse competenze di un medico classico o di un anestesista e non potrà fare il suo lavoro, proprio perché si è specializzato a fare altro. Quindi tutto è medicina, come tutto è economia, però all'interno della medicina, e lo stesso vale per l'economia, ci sono tantissime branche che sono super specializzate e il fatto che uno ha studiato economia e può definirsi economista se vuole, non vuol dire che le sappia tutte. Quindi questa sera è un po' per andare a vedere un po' tutte le varie branche dell'economia. Esatto, hai perfettamente ragione. E questo purtroppo è una cosa che la gente non percepisce, ma non la gente, per dire io sì, gli altri no, la gente me compresa. Cioè io ho detto, ah, voglio studiare economia, ma io non avevo idea di tutte le varie diversificazioni, i vari ambiti. E non li ho scoperte nemmeno quando mi sono andata ad informare, perché poi ci racconterei anche tu la differenza, insomma, in questo. Ma l'ho scoperto mentre la facevo. Cioè io ero già iscritta in triennale e facendola sentivo parlare di economia aziendale, sentivo parlare di... Non avevo esami che appartamente avessero questi nomi, però sentivo queste differenze. E io, per curiosità mia, ho scoperto poi che esistono queste varie... Però altrimenti economia è economia, è tutto, è economia. Addirittura c'è le persone che ti dicono, senti, ma tu che fai economia? Perché hai speso questo per questa... Dove posso spendere di meno per quell'altra cosa? Cioè è proprio... Economia è un calderone, è proprio intensissimo. Esatto. Guarda, rispondo alla domanda rapida del Vise. Al Vise, sì, poi questa qui la tengo caricata sia su Twitch, rimane caricato quello che stiamo registrando su Twitch, che su Instagram, quello che c'è su Instagram e poi anche su YouTube. Quindi la puoi recuperare in qualsiasi momento. Peccato per i problemi di connessione. Comunque, tornando al discorso, è esattamente come è successo a me. Io ho fatto lo scientifico, a suo tempo, e mi stuzzicava l'economia, mi stuzzicava di più la finanza, mettiamola così, e quella volta lì mi ero detto voglio studiare economia, pensando e partendo dal presupposto. Esatto, ci sono super specializzazioni. Partevo dal presupposto che economia fosse... Cioè, impari quelle cose là e capisci di tutto. E invece più studi economia ti rendi conto che ci sono tantissime branche super specializzate che sanno quelle cose là e anche se studi economia non vuol dire che le sai. Puoi intuire, puoi avvicinarti a queste cose. Però diciamo che è difficile è difficile sostanzialmente che ci sia un... Scusate, mi sono distratto dalla notifica. È difficile conoscere tutto. Cioè, penso a una volta Barbascura diceva degli scienziati vengono presi come Batman nel senso che uno pensa che uno scienziato sappia fare tutto e quindi sa fare dal biologo a tutte altre cose che non c'entrano assolutamente niente. Ognuno si specializza, così anche nell'economia. Non è che perché l'economia vi sta da fuori, dice tante cose allora tutti sanno quelle cose. Ognuno sa le basi, si spera. E poi si specializza in qualcosa. Appunto, Alessandra sta studiando consulenza adesso quindi immagino che guardi molto di più i bilanci e l'accounting. Io ho fatto economia, ho fatto finanza intriennale quindi ho visto più i mercati finanziari poi magistrale ho fatto economia pura quindi ho visto solo matematica legata all'economia però appunto non vuol dire che uno sa tutto di tutto. Questo secondo me dipende anche un po' dal fatto che mentre per quanto riguarda l'esempio dei medici se ti fa male la pancia sai da chi deve andare ti fa male l'orecchio sai da chi deve andare per quanto riguarda l'economia secondo me non c'è una grande connessione tra le persone che si percepiscono lontane dal mondo dell'economia e le figure professionali che svolgono vari ruoli dopo aver conseguito una laurea in economia nel senso tendenzialmente l'economia si associa alla figura del commercialista e così c'è proprio un collegamento si è studiato economia ok fai il commercialista no non per forza ci sono tante cose ma uno lo scopre dopo anche veramente se le studia cioè io personalmente venivo da una formazione classica dopo cinque anni passatemi veramente questa a studiare cose che per me erano inutili cioè io continuavo a chiedermi ma io una volta che ho fatto cinque anni di greco e cinque anni di latino ma che vado a fare dove vado che cosa mi serviranno e quindi io per solito proprio per rifiuto di una roba che ho fatto mi sembrava in un certo adesso mi vado a studiare qualcosa che poi effettivamente mi serve tutti i giorni che porta valore che mi fa capire un po' la resta che mi circonda perché poi è vero che l'economia è specializzatissima però è anche vero che l'economia è un po' ovunque e quindi niente adesso vabbè buono è classico dove tu non fai né ragioneria né diritto non fai niente andiamo a fare economia così di corso esatto qui su Twitch scrivono dottore commercialista esatto poi sei un dottore e sei pure commercialista però è un classico quando studiava economia io che già iniziavano ad esserci più indirizzi non c'era solo economia e commercio e economia aziendale che erano gli unici due una volta che si facevano perlomeno a Venezia e a Padova e e mi dicevano ah quindi studi per diventare commercialista faccio no nessun interesse non me ne frega niente non mi piace vorrei fare qualcosa che è legato proprio all'economia proprio la macroeconomia appunto e appunto vorrei vedere un po' con te le varie branche così vediamo un po' cioè cosa si intende per economia cosa c'è dentro se andiamo a scavare ovviamente non andiamo a scavare tantissimo perché se no appunto bisogna essere specifici e specialisti in quello di cui si va a parlare però appunto quando si pensa all'economia mediamente si va a pensare alla macroeconomia cioè il tutto che si muove i soldi che si muovono a livello mondiale gli stati cosa fanno e queste cose qua che è diciamocelo si chiama macroeconomia da lì poi si va più a dentro e quindi quello che fa non quello dentro che c'è dentro uno stato ma più da vicino come si relazionano tante aziende con tanti consumatori che è la microeconomia e poi si va ancora più dentro e più dentro si va più si va nel marketing nella management nell'economia aziendale e via di questo passo e poi ci sono tantissimi lavori collaterali come quello che stai studiando tu che è quello della consulenza in cui ci sono consulenze che sono consulenze di come si dice di cose diverse all'interno dell'economia perché anche essere consulente consulente di cosa? ma consulente le dico lo che vuoi cioè nel senso il consulente che chiamiamolo consulente che in realtà non è un consulente che devono per forza avere quasi tutte le imprese con dei limiti è la figura del revisore cioè lui è quello che deve essere che tu devi avere per farti per farti certificare quello che scrivi nell'informativa del bilancio ma consulente vuoi chiedere un consulente per qualsiasi cosa cioè se vuoi fare un'acquisizione una fusione con una con un'agenzia con un'impresa X magari vuoi farti un'opinione o un giudizio sul bilancio sui piani sui previsionali dell'azienda e chiami un consulente che insomma avendo delle expertise in accounting ti possa dare un'opinione un giudizio sulla struttura su quanto può essere solida l'azienda con cui vuoi spingere dei rapporti di qualsiasi tipo commerciale più taro e qualsiasi esatto e di fatti qui devo dire che la cosa appunto interessante è che lì è una consulenza io ho fatto revisione appunto dopo per tre anni poi me ne sono andato e ho shiftato sempre di più su consulenze diverse all'interno dell'azienda fino a diventare alla fine un consulente aziendale più strategico se vuoi o pianificazione o addirittura economico cioè vediamo la macroeconomia come questa può impattare la tua azienda ed è bello effettivamente vedere come all'interno di tutte queste nozioni qui ci siano tantissime informazioni che si imparano in ambiti totalmente diversi tu parli appunto di accounting quindi di bilanci e quella è una conoscenza molto specifica che fa anche il commercialista che però per esempio uno che dovrebbe studiare economia di suo cioè economia pura il bilancio lo sa perché in Italia si studiano bilanci anche economia per quanto poco però per esempio già all'estero questo non succede e i bilanci e la macroeconomia per esempio non hanno niente a che fare sono due logiche completamente diverse e si basano su conoscenze diverse cioè la macroeconomia è molto più basata sulla matematica e sui modelli matematici la matematica in economia aziendale diciamocelo non è che sia tutta questa difficoltà cioè ci sono addizioni sottrazioni in divisioni in moltiplicazioni però in sostanza non è che ne vai a farti questi studi allucinanti e aspetta un chimerino domande da laureato in economia come vedete i ragionieri che fanno il vostro stesso lavoro allora non so se vuoi rispondere adesso già alla domanda rispondiamo al volo che ti sento dai letta e rispondiamo allora sinceramente io non sono ma voi che studiate economia come vedete quelli che studiano ingegneria gestionale cioè nel senso per me non è tanto la formazione che fai all'università perché poi sono tutta una serie di nozioni che tu non fai in tempo a starci dietro a ricordarle perché fai meno frequentemente le pratiche le metti in atto e quindi non è tanto secondo me una questione di formazione quanto più una questione di esperienze di campo dove hai lavorato come hai lavorato quanto sei cresciuto professionalmente quanta expertise hai maturato non tanto di che formazione hai avuto sì neanche io non ho tanto vabbè al di là hai citato gli ingegneri gestionali che non sono economisti hanno fatto ingegneria sono ingegneri no ma ci paragonano tantissimo io sento sempre questa roba sempre ecco magari dalla laurea in economia sento più la differenza con un ingegnere io non mi sento un ingegnere abbiamo mentalità diverse quello che non vedo differenza voglio dire un ragioniere ha delle conoscenze da ragioniere però se poi ha fatto la carriera da commercialista quindi ha imparato sul campo sa molte più robe di me da commercialista io non sono una mazza da commercialista che sono appunto tutte le conoscenze che si hanno ecco entriamo più nel dettaglio un commercialista prendiamola questa per tornare nell'argomento il commercialista ha delle conoscenze che sono molto legate alla fiscalità alla legislazione e ai bilanci queste sono le conoscenze che un commercialista deve avere infatti per fare per fare il si interrompo un attimo per fare il dottore commercialista effettivamente puoi avere anche una laurea in giurisprudenza non necessariamente in economia giusto? mentre per fare il redditore solo economia c'è una differenza? no di fatti è esattamente lì la questione cioè lì lo fai con devi avere le conoscenze di ragioneria che ti danno delle basi e poi ti applichi uno che fa ragioneria che si butta a fare qualcosa più legato non so alla revisione dei conti per esempio no e difatti adesso in realtà chi l'aveva fatto negli anni addietro può dopo conto anni di esperienza e tutto perché una volta non c'era l'università può diventare revisore dei conti adesso non più ma anche perché chi ha studiato ragioneria adesso non ha le competenze che aveva una volta e non entra nel mercato del lavoro e fa un lavoro di chi era entrato da ragioniere a fare il commercialismo 30 anni fa quindi direi che uno che ha tantissima esperienza è un commercialista a tutti gli effetti cioè ha passato un esame lo sa quelle cose uno che ha studiato solo ragioneria adesso rispetto a uno che ha fatto l'università direi che comunque una differenza c'è nel senso che anche se lo vedo già da chi ha fatto le superiori a chi ha fatto l'università o chi ha fatto la triennale la magistrale c'è proprio un passaggio che è di maturità se vogliamo di come affronti le cose non è una questione tanto di nozioni perché penso c'è una mia amica che con un buon background di ragioneria di un istituto specialistico comunque si è fatta tre anni con le sue conoscenze che si portava dalle superiori quindi non credo sia tanto una questione di nozione quanto proprio di maturità ma è un gap che c'è anche quando fai il passaggio da triennale a magistrale cioè studi le cose con consapevolezze diverse con un'idea più chiara di quello che è intorno di dove vuoi arrivare quindi è lì secondo me che sì e difatti l'approccio dell'università è totalmente diverso da quello delle superiori c'è scritto viva economia basso ingegneria gestionale io sono d'accordissimo pur avendo tantissimi amici che hanno fatto ingegneria gestionale ma no siamo due cose diverse non mischiamo il diavolo con l'acqua santa ovviamente l'acqua santa dell'economia no comunque al di là di quello diciamo che per chi ha studiato tutto ed è diventato commercialista ha fatto un suo percorso ha studiato bravissimi per chi invece studia ragioneria adesso rispetto ad uno che fa l'università è un approccio diverso mettiamola così anche una io mi sono confrontato anche sarà successo anche a te all'università che molti colleghi che arrivano da ragioneria quando approcci gli esami ragioneria per esempio con lo scientifico sono due mentalità diverse ragioneria è un approccio molto pragmatico però non è detto che perché hai fatto ragioneria riesci a fare economia benissimo ed è molto facile magari economia aziendale vedi bilanci da una vita e quelli li fai sereno macroeconomia e microeconomia io vedevo che facevano tantissima fatica no 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 ma infatti è proprio diverso ragioneria come dici tu hai già in mente quella struttura per cui tu riesci a capire anche semplicemente l'attivo e il passivo di un bilancio che comunque per me che venivo dal classico non avevo mai visto robe erano arabo per capire la differenza tra attivo e passivo è stata tosta mentre invece vedevo una facilità nel comprendere queste robe qui ma poi macroeconomia microeconomia cioè sono mondi a sé stanti che si studiano separatamente e che poi penso a livello teorico ma che vada anche oltre la triennale poi si riescono effettivamente a ricongiuncere ma quando si studia non è assolutamente chiaro né cosa c'è di connesso tra questi due tra questi mondi né bene quale sia la distinzione che poi in futuro ti porterà a scegliere un settore piuttosto che in altro questo no sì devo dire che è abbastanza generico qui chiedono appunto su twitch chiedono appunto ma per esempio alla bocconi così torniamo anche un po' sul senso anche di questa serata come in altre università in economia cosa si può studiare esatto è un po' il senso di questo che volevamo spiegare stasera è questo ci stiamo un po' perdendo mi sto perdendo anche un po' io perché appunto avere chiaro come spiegare a chi non conosce l'economia non è così semplice nel senso che ci sono tantissimi settori appunto come dicevamo c'è l'economia teorica se vogliamo che è un macro settore che racchiude la microeconomia e la macroeconomia e se volete poi sì che appunto è macroeconomia economia e macroeconomia sono è un altro modo di chiamare economia e politica sì è un altro modo è una branca della macroeconomia mentre anzi scusami economia economia politica e microeconomia ma è politica economica invece macroeconomia ogni università le chiama in maniera diversa però sostanzialmente è questo e comunque le politiche economiche si rientrano all'interno quindi proprio l'approccio della microe macro e dove dentro ci sono poi economia internazionale economia del lavoro economia dei mercati economia delle istituzioni bravissime economia delle istituzioni tutte queste cose che vanno a vedere sostanzialmente dei grafici e studiano il passato per capire come l'umanità si è comportata nel passato in questi settori cercano di inferire come suol dire in statistica e tirare fuori un modello che ci dia un sentore di come prevedere il futuro ecco questa è micro e macro questa è l'economia teorica e in questa branca la matematica la statistica sono importanti l'econometria la fa da padrone e l'econometria è la statistica applicata all'economia mi è detta proprio in maniera semplice che è questo nome fighissimo econometria io quando ho visto l'esame ho detto che figata sarà econometria è un esame di merda ve lo dico per chi toccherà fare econometria è un esame di merda e sai difficile tra l'altro dipende dal professore in realtà di base non è difficile però ci sono professori che lo complicano abbastanza ok c'è questo ramo che lo potremmo chiamare anche medicina proprio quelle lì che guardano in medicina sono i medici proprio che vanno a fare le cose più teoriche guardano per i farmaci vedere come sistemare a livello macro l'economia e come le cose vanno come indirizzare paesi come indirizzare mercati e queste cose qua si diciamo tutto quello che poi come dicevi tu si basa su un modello cioè abbastanza standard tutte quelle cose che uno studia che poi si nascono o si traducono in modelli standard per prevedere qualsiasi roba fa parte di quello di cui stavi parlando secondo me il punto chiave fermo di questo settore è il modello una cosa standard sì poi stanno arrivando altre domande vi dico tutte le domande che state mandando me le tengo da parte e rispondiamo dopo così andiamo avanti e poi le prendiamo perché io non le vedo e no perché ce l'ho sull'altro schermo perché purtroppo su cosa su ti spiego perché di solito uso StreamYard StreamYard fa vedere le domande a tutti e le vedremo io e te pensavo che anche Restream facesse uguale invece no Restream non ci viene incontro in questo e di solito le posso anche selezionare far vedere a tutti e invece no perché questa piattaforma di merda che non userò mai più non mi permette di fare le robe che l'altra mi permette di fare e mi piace di più comunque chiusa questa parentesi poi riprenderemo veramente le domande che sto arrivando tantissime però appunto giusto per questa è la macroeconomia cioè è l'economia teorica dall'altra parte c'è l'economia più pratica del fare se vogliamo che l'economia aziendale dentro l'economia aziendale poi c'è anche il management volendo e si divide in anche lì sono tantissime sottocategorie perché c'è il marketing l'accounting l'accounting è proprio ragioneria è far bilanci stretti bilanci la consulenza volendo è più legata all'economia aziendale se vogliamo dentro c'è anche tutta la organizzazione aziendale quindi riorganizzare imprese strategia strategie di imprese che poi vengono anche riprese volendo l'ingegneria gestionale ma anche la questione anche di controllo esatto esatto la parte di controllo esatto amministrazione e controllo sono tutte delle microbranche sotto economia aziendale che devi avere competenze in economia aziendale ma poi quando vai nello specifico uno che ha fatto per esempio una branca piuttosto che un'altra non si parlano una che ha fatto marketing con uno che ha fatto amministrazione e controllo ve lo dico io in impresa non sanno neanche comunicare fra loro hanno proprio linguaggi diversi per esempio io ho fatto revisore dei conti ho fatto internal audit per multinazionali quando io andavo a parlare con finance usavo un linguaggio quando parlavo con marketing parlavo come se parlassi a dei bambini di 5 anni perché i controlli non li conoscono non capiscono l'utilità ma non perché siano stupide ma proprio perché è una mentalità diversa si è una formazione anche diversa è proprio un approccio alle cose è come se vai a parlare con un artista come se vai a parlare con un matematico cioè è proprio un modo di approcciare le cose chi si occupa di accounting è schematico cioè vede quelle cose sa dove quelle cose devono essere inserite classificate ordinate codificate lette mentre invece chi per esempio fa marketing ha una mentalità molto più creativa molto più di introspezione andare a capire qual è la cosa su cui fare leva per quindi c'è proprio sono due punti diversi sì 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 sono due punti diversi all'interno dello stesso mondo quindi anche uno che fa economia teorica e non conosce l'economia aziendale pensa che lì dentro un po' tutti si capiscono in realtà già là dentro non ci si capisce come non ci si capisce in economia teorica perché all'interno poi c'è economia comportamentale che è più recente che prende anche un po' di psicologia e uno che fa economia macroeconomia sperimentale pompatissima non si parlano perché uno fa una roba molto più pragmatica l'economia comportamentale prendi delle persone gli fai fare delle cose vedi come si comportano e da lì cerchi di estrapolare il perché si sono comportati in quel modo fa inferenza sperimentale dall'altra parte usano delle banche dati allucinanti e su quelle banche dati cercano di capire perché sono due metodi molto diversi comunque per rispondere velocemente a Davide che ha chiesto la live verrà salvata sia su Instagram che su Twitch che su YouTube quindi avete modi di recuperarla successivamente con calma quando volete dove volete e no e di fatti appunto poi è questo il bello tu entri a fare economia io mi ricordo poi non so da te da classico io da economia mi ricordo già da scientifico che pensavo di avere iniziare a capire tutte queste cose avrei studiato economia e capivo tutto quello che c'era dell'economia e anch'io percepivo che studiava economia e facevo domande come mi arrivano adesso del tipo perché cazzo ne so perché se il canale di Suez è bloccato allora è un problema per l'economia cioè io perché ho studiato determinate robe che proprio sono impattate da questa cosa lo so ma se tu vai da un commercialista vabbè è una cosa abbastanza basilare questa in realtà penso che lo sappiano tutti no ok il concetto è chiaro però però ci sono delle domande che uno lo sa molto specifico per esempio le domande che mi fanno sulla moneta l'economia monetaria è molto specifica molto difficile molto veramente anche a livello teorico è molto impegnativa il fatto che uno abbia studiato economia non vuol dire che sa parlare di economia monetaria come se fosse no infatti uno è costretto marketing un'economia monetaria parlare in un'altra lingua è parlare veramente proprio in un'altra lingua con altri ma anche semplicemente i termini io adesso avevo tra un esame opzionale ho scritto marketing per cui perché comunque anche se non è il mio settore mi ha sempre affascinato io ho fatto fatica a intendere la professoressa di marketing la terminologia che utilizzava era molto lontano da il mio esame banalissimo di programmazione contabilità analisi finanze era un altro capito marketing secondo me marketing forse è il ramo un po' proprio più lontano come approccio come tante cose secondo me marketing è proprio quello più è molto molto commerciale marketing e io l'ho sottovalutato tantissimo perché anche a me piaceva tantissimo per esempio marketing farò outing mi faceva tantissimo marketing però lo ritenevo una facoltà e un ramo dell'economia minore della serie vabbè marketing sono in grado di farlo tutti questa era la mia supponenza da studente del liceo che sceglie economia e lì quella volta lì mi ero detto ma sì farò degli esami di marketing lo riprenderò studiando con calma però non mi faccio un corso di laurea interi in marketing dopo tutto cioè per fare quelle robette là cosa ci vuole il problema è che marketing è fortemente improntato sulla psicologia e la sociologia e difatti quando uno fa un corso di marketing di laurea ha degli esami di psicologia sociologia e di psicologia del consumo e sociologia del consumo cosa c'è che non si sa invece se si studia economia in generale fai qualsiasi altra economia quelle robe non le vedi manco per sbaglio e difatti perché sto facendo un laurea in psicologia adesso perché mi manca quella cosa là e vedo che per me è importante secondo me è importante anche per chi fa economia ovviamente non tutta però è importante capire che c'è anche un di più oltre alla teoria matematica però beh questo è un altro discorso ma infatti vabbè è un discorso ampio di cui non ci so allungheremo troppo ne abbiamo già parlato di te però stiamo studiando appunto la differenza economia classica si arriva all'economia neoclassica e studiamo la funzione di utilità studiamo come questa partiva da essere considerata con un minimo di riferimento alle emozioni poi arriva economia neoclassica strocca tutto quanto l'economia deve diventare una scienza e di lì infatti tutta quella costruzione di modelli standard dentro i quali si deve rientrare per far sì che l'economia diventi una scienza e poi ora con la neuro economia l'economia comportamentale si ricomincia a introdurre tutti quei discorsi tutti quei collegamenti con la psicologia e tutto che fanno dell'economia un po' meno una scienza tanto che leggevo il libro di cui vi parlavo l'altro giorno che un presidente degli Stati Uniti adesso non ricordo chi disse che se ci fosse stato il trivia forse per gli economisti ci sarebbero stati 100 domande e 30.000 risposte per intendersi vero comunque vorrei da studente di psicologia potrei dire che la psicologia è molto più scientifica di quello che si pensa però ok no nel senso che in Italia è percepita in maniera molto filosofica il Regno Unito è percepita in maniera solo sperimentale e quindi è tutto basato su paper con dati e quindi estremamente e l'economia è vero c'è una parte dell'economia che è filosofia economica e lì vai tutto di ipotesi e tutto e poi c'è la matematica che a volte scardina la filosofia perché non rientra e quindi appunto ci sono anche nell'economia ci sono queste branche più pragmatiche più numeriche più scientifiche e altre che sono un po' più filosofiche se vogliamo e più sì più legate alla filosofia alla fine la filosofia è sempre la madre di tutte le scienze che poi si sono diramate in maniera diversa però no sì sono d'accordissimo su questa cosa degli approcci anche diversi stavo pensando che da questa potremmo anche parlare proprio di università cioè già stiamo parlando comunque dell'approccio di come ci siamo entrati di com'è l'approccio da chi la vede insomma da fuori e da com'è dentro un po' anche perché sono arrivate le domande in relazione a questa cosa e un po' anche perché è una cosa che mi chiedono spesso studenti delle superiori quando si parla di economia e si entra a fare economia all'università di com'è l'approccio allora l'approccio all'economia in Italia è particolare rispetto al resto del mondo infatti prima di questa live ci siamo guardati se io che Alessandra i sillabus come cavolo si chiamano i moduli che ci sono di economia e programmazione delle altre università straniere di cosa si studia economia perché proprio come dicevamo prima in italiano tutto questo rientra sotto economia all'estero economics è solo l'economia pura l'economia teorica perché economia aziendale si chiama business o accounting o management o marketing o quello che volete voi e sono molto specifiche e difatti vedendo le università all'estero proprio andando a guardare le varie università se volete vi faccio anche proprio vedere ma è che c'è la condizione sì vi faccio vedere proprio la mia università e i corsi che fa li vedete anche per chi è su Instagram non li vedete lo vedranno quelli che sono su Twitch io fare qualcosa per i nostri amici di Instagram però si vede comunque piccolissimo che secondo me non vale la pena quindi allora questo è il sito dell'università dove studio io se voi andate questo qui è proprio la home page che sono fatte abbastanza da in modo tale che uno cerchi il corso se vogliamo da subito quindi giusto per entrare in un corso qualsiasi di triennale però per esempio già per darvi le differenze MSC vuol dire Master of Science che è un che appunto il master che da noi considereremmo di non umanistico sostanzialmente tutto ciò che finisce in A cioè B A M A sono Bachelor of Art e Master of Art che vuol dire sostanzialmente un approccio umanistico alla materia mentre BSC o MSC è Bachelor of Science o Master of Science che è l'approccio scientifico alla materia quella differenza il metodo scientifico cioè studi le stesse robe solo che l'approccio è proprio diverso e tanto per farvi vedere ma valdia la matematica per l'economia che fra l'altro vorrei farvi dare un occhio per chi fosse interessato a una roba del genere perché avevo guardato il modulo e una roba che mi era mi aveva colpito è che c'era un esame di criptovalute e di criptografie che è una cosa che io trovo molto fica al giorno d'oggi ma io non ho mai letto un esame del genere si pensano che gli facciano matematica in realtà per quello questo qui è praticamente proprio un'economia con un focus sulla matematica se guardate gli esami del primo anno sono calcolo e algebra quindi totalmente matematica introduzione all'economia poi numeri proof and counting che sono praticamente matematica pure poi calcolo 2 macroeconomia teorie e policy che quindi è macro non so perché facciano macro prima di micro terzo anno micro e poi ci sono come altri esami che si possono scegliere appunto anche quelli di teoria dei numeri e criptografia che secondo me è una gran figata e questo qui è un matematica con economia però come vedete il focus qui è più di matematica che di economia mai vista nemmeno macro prima di micro neanche io perché sì da noi tecnicamente che poi in realtà sono così slegate che non è che devi per forza studiare micro prima di macro è vero che diciamo che puoi partire dal piccolo e andare verso il grande cioè parti dal singolo cioè tra i due che fanno lo scambio a spiegare appunto micro e quella che parla di domanda e offerta quindi come si costruisce il grafico di domanda e offerta break even point ah vedi già break even è un termine aziendale a economia non diresti break even point diresti punto di ottimo perché è dove il mercato trova l'ottimo break even invece quando tu vai a coprire tutti i tuoi costi e inizi da quel punto in poi a guadagnare infatti quando ho fatto micro questo punto qui lo chiamavo nemmeno punto di ottimo lo chiamavo ancora in un altro modo e quando ho fatto programmazione la stessa roba lo chiamavo break even point vedi vedi perché già la terminologia è come da uno stesso grafico due che sono state economie diverse pensano due cose diverse e allora vi faccio vedere questo qui che è proprio di economics economics se si va a guardare ci sono tantissimi i corsi sono di vabbè economia statistica IT professional skills vuol dire praticamente usare excel quantitative techniques sempre statistica poi c'è macro a manetta international economics macro a manetta sono tantissimi esami macroeconomia ah no perché ci sono due route diverse econometria economia internazionale e poi c'è behavioral economics micro micro è facoltativa addirittura e ci sono anche political economy che secondo me è uno degli esami che mi era piaciuto di più e su un'altra università avevo trovato che c'era vabbè c'è portfolio management quindi gestione del rischio corporate finance che da noi si fanno più a finanza aziendale queste cose qui si fanno più a finanza che a economia e quindi questo qui se voi guardate non c'è un esame che sia uno che sia di accounting di management di marketing ok perché economia all'estero cioè non in italiano economics vuol dire solo economia teorica mentre tutto il resto si chiama appunto business management marketing whatever you want quindi praticamente all'estero se uno studia economia non glielo chiedono mai se diventerà un commercialista no anche perché c'ho la b che mi va sempre il doppio no anche perché a parte che il concetto commercialista si chiama accountant in inglese e il commercialista può farlo anche chi ha studiato filosofia perché in Regno Unito è molto diverso poi non so negli altri stati in Regno Unito tu puoi studiare quello che vuoi per diventare commercialista detti comunque tre anni di certificazione che si chiama ACA accounting certified association devi farti altri esami sono 12 esami e in più devi lavorare quindi devi lavorare in quel ruolo e farti gli esami difatti a me per esempio io sto facendo fatica adesso a trovare lavoro no adesso sono per i cazzi miei facevo fatica a trovare lavoro come dipendente dopo la Brexit perché richiedevano che tu avessi per essere considerato anche come internal auditor certifiche tipo ACA da accountant che io non ho perché in Italia ti lavori in economia non ti serve fare la certifica da accountant per lavorare come cioè come cose che fai di economia per ruoli di economia anche semplicemente nel dipartimento finance di un'azienda qui invece vogliono che tu sia un accountant perché perché in Regno Unito tu puoi studiare quel cazzo che vuoi e dopo che hai studiato quello che vuoi ti scegli la tua certifica e te la fai io ho un'amica che ha fatto lingue e adesso lei lavora come revisore dei conti in price è ACA quindi lei è più amante di me perché è un ACA però è laureata in lingue sostanzialmente e un'altra cosa che succede qua in Regno Unito è che non si fa la magistrale si fa solo la triennale e poi va a lavorare la magistrale la fanno i prezzolati che hanno tanti soldi e mediamente si fa dopo anni di lavoro non si fa subito dopo l'università è un di più per avere uno stipendio più alto effettivamente cioè se tu hai la magistrale rispetto alla triennale vieni pagato di più anche se hai lo stesso ruolo degli altri solo perché hai studiato di più comunque per esempio di competenze questo è una curiosità mia personale nel senso quando ti vai a confrontare con un dottore commercialista che magari appunto non viene da uno studio prestamente di accounting nel senso le competenze sono quelle giusto? dopo tutti gli esami comunque c'è la pratica prima di poter no la pratica la devi fare per forza quindi c'è poco da fare non è che scampi cioè gli esami che devi fare li devi fare associati alla pratica non puoi non puoi fare l'università senza fare la pratica cioè non puoi fare quegli esami senza fare la pratica e devi farla presso un se non riesco più a parlare facendo un lavoro che è in linea con determinati parametri ok quindi se tu lavori per una big four sei certo che sì costa molto di più la magistrale all'estero dipende dagli stati è arrivata la domanda in Inghilterra costa dai 10.000 pound in su ed è di un anno però la magistrale non è due anni come in Italia rispetto alla triennale costa di più la triennale costa meno all'estero rispetto alla magistrale che comunque costa molto di più che in Italia comunque dipende da stato a stato io parlo del Regno Unito in Germania costa molto meno che anche in Italia in Francia costa poco però valgono molto di più le università private per esempio sapevo in Francia poi è anche molto un discorso dell'aiuto che l'ho stato dai cittadini cioè per esempio in Italia è accessibilissimo sotto questo punto di vista come qualsiasi cioè in base al reddito te hai una fascia di contributo per cui se hai un reddito basso oltre a non pagare le tasse danno delle borse di studia anche abbastanza importanti soprattutto se sei fuori sede ti permetti all'estero è abbastanza uguale in realtà però dipende se sei cittadino se tu parli di estero Europa ovunque va un cittadino europeo grazie all'Unione Europea è considerato un cittadino di quello stato quindi se io vado in Germania sono considerato un tedesco per i tedeschi perché sei equiparato tale il Regno Unito ora io ero equiparato a beh sono tuttora perché sono arrivato qui prima della Brexit ma prima della Brexit i cittadini europei erano considerati cittadini inglesi difatti io le tasse universitarie le pago come un cittadino britannico non come un extra britannico dopo la Brexit quindi da quest'anno che è già uscita le tasse universitarie vengono considerate come uno esterno quindi non si possono chiedere finanziamenti allo stato inglese e pagate le tasse che si pagano che pagano i cinesi gli americani gli africani e tutti gli altri che vi dico è tendenzialmente il doppio di quello che pago in inglese cioè guardavamo prima guardate vi faccio vedere questo qui che ha il bachelor in come si chiama in business come potete vedere questo qui è in business poi c'ha 20.000 PAF diversi che sono appunto accounting human resources marketing management e ognuno c'ha degli esami specifici che sono indirizzati per quella parte là per esempio appunto quelli che fanno accounting hanno anche financial reporting e audit chi fa marketing non ha né financial accounting né audit però c'ha buyer behavior che fra l'altro io ho un esame che farei sicuramente a scelta perché mi piacciono un botto queste cose e fanno cose totalmente diverse cioè è anche l'approccio diciamo fra marketer e finance finance è molto ligio alle regole e guarda alla compliance cioè a seguire le regole a fare le robe che siano fatte come dio comanda mitigando i rischi marketing la parola rischio non sa cosa si guarda il vantaggio economico e non mentre a volte appunto il rischio ha un costo cioè ti costa mitigare il rischio che nel marketing dici beh ce la corriamo il rischio il cazzo ci accogliamo il costo però magari la legge non è proprio così simpaticamente volenterosa ad accettare questa cosa comunque giusto per farvi vedere il prezzo questo qui è il prezzo di un di un corso di laurea in Inghilterra di business costa 9.250 per gli inglesi e per gli internazionali 14.280 e dura tre anni quindi questa è la tuition fee è arrivata una domanda Dario ciao a tutti secondo voi un master in management dopo una laurea magistrale in ingegneria può essere un buon investimento? se tu hai già una laurea magistrale in ingegneria industriale dipende da cosa intendi per master dove lo fai perché per dirti il master in management che se vuoi ti trovo anche qui in Inghilterra è considerato appunto come un di più dopo la triennale quindi se tu fai un master in management per esempio qui in Inghilterra non è diverso dal tuo master in ingegneria industriale che hai fatto è abbastanza diffuso perché il master in management è fatto principalmente per chi non ha no questo è per entrare nel mio login scusate vedete poi mia emozione sbaglio i tasti comunque quando tu era questo grazie quando tu fai un master in management di solito è fatto apposta per chi non ha studiato economia ed è per dare delle basi a chi non ce le ha e quello è molto molto utile ed è una sorta di mini MBA però ti direi se hai già una laurea magistrale in ingegneria industriale vai e fatti un MBA cioè ti fai un tot di esperienza lavorativa e poi ti fai un MBA chi conosco io scusami vai no no finisci finisci eccolo qua management MSC e il chi conosco io che ha fatto appunto dei corsi diversi ha fatto poi un MBA io ho mio amico che è laureato in scienze forestali si è fatto un MBA e lavora come manager in una multinazionale americana con lui chi faceva l'MBA con lui c'era gente che aveva lauree in ingegneria lauree in giurisprudenza l'MBA è quello che ti fa la differenza se facessi solo un master che non è un MBA sostanzialmente stai facendo lo stesso livello di formazione che hai già preso in un'altra cosa infatti secondo me se stiamo parlando di un master all'estero d'accordissimo con Jacopo nel senso hai già quelle conoscenze hai già quelle competenze poi secondo me devo essere sincera Jacopo il master è sempre una scelta interessante perché nel master c'è sempre tendenzialmente più delle volte non sempre un aspetto pratico che gli studi di solito non ti danno però appunto dipende sempre da dove hai studiato magari hai fatto una università dove hai fatto un bel tirocinio comunque personalmente considerando anche i costi dei master io direi di iniziare a cercare lavoro anche perché non è che dopo un master in management ti si offre la posizione lavorativa del manager cioè allora io avrei anche degli esempi che con un master in management all'estero entri da assistant manager che ha ruolo prima di essere manager cioè non è assistant manager in inglese non vuol dire l'assistente del manager ma vuol dire il vice del manager e quello sì in Italia si fa la gavetta di tutti quello che consiglio sempre io quando mi viene chiesto è ma se volessi fare un master dopo l'università aspetta lavora capisci cosa vuoi fare e poi fatti un master sì soprattutto sei già anche una magistrale cioè poi diventa anche cioè credo che sia importantissimo entrare nel mondo del lavoro in maniera abbastanza cioè può portare un po' più fretta entrare nel mondo del lavoro che l'investire nella propria formazione perché poi magari lavorando ti rendi conto di quelle che sono le tue lacune piuttosto che continuando a studiare perché finché non metti in pratica una roba secondo me è ancora tutto troppo quindi io personalmente ti consiglio di iniziare a cercare un lavoro ovviamente nel settore dicendoti cerchi un lavoro te vai a fare qualsiasi cosa che sta fuori poi no però sì io cercherai un lavoro nel tuo settore no ma d'accordissimo cioè io sono dell'idea che prima entri nel mondo del lavoro meglio è una formazione ulteriore te la puoi sempre fare dopo di fatti dopo il mio triennale ho fatto sono entrato nel mondo del lavoro adesso sto facendo una seconda laurea perché quella in psicologia alla fine è un master in psicologia però viene contato come seconda laurea non è un di più ma è una roba parallela ed è un di più che ho preso in più per arricchire perché studiando perché lavorando per dieci anni ho capito che per quello che mi piaceva a me per quello che volevo dare un taglio al mia carriera mi serviva quello se tu lo fai prima scusami no dicevo fermo le stanno che comunque ci sono tanti master che spesso ti garantiscono poi anche l'occupazione quindi lì poi è un investimento sul proprio futuro lavorativo però adesso non conosco il settore dell'ingegneria industriale o meglio non riesco poi a dirti come potrebbero essere le prospettive di lavoro la domanda però secondo me dipende anche da cosa vuoi fare cioè nel senso l'ingegneria industriale vabbè direi ti do dei contatti suoi di miei amici che sono laureati in ingegneria industriale che strade hanno preso io fossi ingegneria industriale invece che un master mi farei piuttosto un dottorato perché lì col postdoc tu puoi far carriera in ingegneria industriale ma dipende da cosa vuoi fare se vuoi lavorare come dirigente in un'azienda il postdoc può servirti ma tanto avanti in carriera avere un master in un MBA ti aiuta prima però sempre secondo me prima entri nel mondo del lavoro meglio è veramente cioè più ritardi la tua entrata nel mondo del lavoro peggio è per un'impresa cioè io ho assunto persone quando lavoravo per il nostro team preferisci avere qualcuno che ha lavorato un anno in più piuttosto uno che ha studiato un anno in più sempre perché l'università ti dà una forma mentis ti dà anche delle nozioni se vuoi però il mondo del lavoro lo impari vivendo sono molto anche per il learning by doing in particolare per determinati tipi di lavoro e anche la finanza sì devi studiarti i libri sì devi impararti le cose però è meglio se inizi a lavorare inizi a fare le cose e poi da lì quando è un po' di lavoro dici ok sono tot anni che faccio questo lavoro mi faccio un MBA e mi do la raddrizzata cioè ho un altro mio amico e poi riguarda magari dall'esperienza di lavoro che fai nel senso che capita di lavorare per un'azienda grande e quindi magari di ampliare già il tuo le tue conoscenze ti resta rendere conto facilmente di quello che poi ti manca di quello che vuoi approfondire quindi dici mi faccio un master in questo perché è quello che mi manca è quello che non ho avuto modo di approfondire né con la mia formazione né con la mia esperienza di lavoro e allora ti fai un master che ha senso fare e per cui ha senso investire i tuoi soldi perché comunque parliamo di un bell'investimento sì 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 no difatti per quello cioè è un costo importante direi che spendilo quando ti può rendere di più anche se si aiuta insomma però c'è stata una mania anche quando mi sono laureato io che dopo la magistrale c'era gente che andava direttamente a fare master e anche io ero tentato e poi chi era già nel mondo del lavoro mi ha fermato dal farlo e alla fine apprezzo questo suo consiglio e lo direi anch'io questa persona poi non aveva fatto il master l'ha fatto dopo ha cambiato carriera con quel master e ti permette di avere esperienza lavorativa capire di più cosa vuoi perché poi i master sono molto specifici di solito ed è bene che lo siano perché devono darti quel di più e se ti fai una roba specifica poi ti rendi conto che ti fa cagare fare quella roba nella vita hai speso dei soldi hai speso un anno nella tua vita per fare una roba che quindi ti direi lavori in più poi passerei ad altre domande che ci sono arrivate sempre in tema che prendono anche un po' quello che dicevamo prima e te le vengo a dire la vabbè una è quella di Wombleclut per fare economia è meglio fare lo scientifico o ragioneria? posso togliermi questo lo penso la voglio dire la manita come ho fatto il classico mi fatti vuol dire rispondi tu lasciate stare i licei cioè ma proprio no adesso non esageriamo cioè non voglio però ragazzi ce ne sento è sempre un discorso quanto tempo è che fai una roba piano piano in paio a furia di ripetere a furia di io ho fatto 5 anni la testa piena di paroloni di greco di latino non ho mai saputo dove appiccicare questi paroloni di greco di latino li ho scordati e mi sento di essere rimasta con un pugno di mosso in mano detto ciò magari lo dico io perché mi faccio un'auto analisi sono anche abbastanza severa con me stessa magari chi mi guarda fuori mi dice però ti ha dato un approccio allo studio però ti ha dato una curiosità una persona mentale una forma mentis può essere che me l'abbia data la scuola non è detto che sia così e per quanto mi riguarda finché non vivo una vita parallela in cui prendo una scelta alternativa e vedo come va non è la scuola ad avermi dato quella forma mentis però io farei ragioneria farei ragioneria fatta bene fatta bene studiandola perché poi vabbè in generale un po' gli istituti tipo ragioneria per esempio da me sono considerati come quelli io vado lì perché non ho voglia di fare niente no io farei un bel cinque anni di ragioneria un po' di diritto un po' di nostre ragioneria in generale voli il mondo è bello perché vario perché avrei risposto in maniera diversa no mi fa piacere sentire questo punto di vista perché da un certo punto di vista sono più dell'idea che di quello che dicevi te alla fine basta studiare una ti aiuta più di un'altra ma basta studiare e impari diciamo che una hanno degli approcci diversi il liceo rispetto alla ragioneria è un approccio molto diverso e quale ti aiuta di più dipende da cosa vuoi studiare se uno fa aziendale secondo me ragioneria ti aiuta tantissimo cioè io che venivo dallo scientifico capire le robe di economia aziendale in particolare ragioneria accounting e tutte queste cose no no certo ok ho capito per me era una logica cioè io lo scientifico fai matematica è tutto studio di funzione la logica della ragioneria per me era totalmente irrazionale cioè io lo guardavo e dicevo ma chi è lo stupido che gli sei inventato un giorno di fare sta roba della partita doppia per fare ste robe che puoi fare in maniera si è un monaco esatto che dice ma non c'era un metodo meglio della partita doppia per fare ste robe perché arrivando allo scientifico non capivo la logica poi ho fatto il revisore dei conti ho lavorato ho visto bilanci ho imparato ho capito la razio che c'era dietro al perché all'università non me l'hanno spiegata bene o io non l'ho voluto imparare bene cioè non so di chi sia la responsabilità io mi prendo la mia cioè non mi piaceva non l'ho studiata con grande trasporto e quindi insomma l'ho un po' sofferta la ragioneria però ci ho lavorato quando ho capito la razio dicevo vabbè ha la sua logica no è perfetto che sia così perché è logico che sia così però arrivando allo scientifico facevo veramente fatica a capirlo al contrario microeconomia macroeconomia è tutto studio di funzione per me era una cagata pazzesca cioè io sentivo gente diceva micro e macro cavolo devo ancora passarli devo fare ma ste cazzate qua sono delle funzioni lineari con un po' di variabili ma no sarà difficile fare sta monata qui per me era facilissimo perché ho fatto studio di funzione per anni allo scientifico quindi direi dipende da cosa vuoi fare ragioneria ti aiuta molto di più nelle cose più aziendali e lo scientifico ti aiuta nelle cose più matematiche però poi alla fine della fiera l'università ha una mentalità che è diversa dalla scuola e devi prenderla e devi studiarla così com'è ti direi forse ragioneria è un approccio molto pragmatico che ti porta ad utilizzare quelle robe già nel mondo reale se vuoi e l'università che è teorica ti allontana e forse ti scombussola e io vedevo come scoglie anche per loro sia i diritti che la matematica che per me la matematica è stato uno scoglio e i diritti per uno che è studiato sempre sui libri dallo scientifico non ti fa nessuna penso anche dal classico non ti fa nessuna differenza studiare un diritto che non avevi studiato prima no paradossalmente sarebbe in base nei miei studi è stato sempre più facile studiare robe teoriche imparare macini di cose se mi ricordo le mie interrogazioni di Divina Commedia portavo della quantità di roba che ragazzi ma Dante mi fa un baffo va bene però infatti fa tutto cioè fa tutto brodo devo dire secondo me appunto io sono dei sostenitori che fa mentalità però uno scientifico mi ha dato un approccio che è molto in linea con l'approccio accademico e mi sono trovato bene però ci sono alcune alcuni studi che ragioneria ti aiuta no infatti tornassi indietro farei ragioneria però forse questa risposta che ti do te la do dopo tanto tempo quindi se ti dico farei ragioneria vuol dire fare ragioneria con la mentalità che adesso mi permette di capire quanto mi servirebbe fare ragioneria quindi studiandola in un modo che magari se l'avessi scelta all'epoca non avrei studiato con quella attenzione lì con quella cortezza lì con quella prospettiva di lungo termine e di fatti nel senso fai il fin dei conti però ragioneria è sempre in linea con quello che studi tu tu adesso stai facendo consulenza ragioneria è fondamentale per consulenza se tu avessi fatto non lo so finanza ragioneria ti aiutava molto molto meno cioè non c'era quasi un corso che ti andava bene no infatti sì per molestando che ci sono appunto un isegno finanza in generale dove la matematica è molto molto più importante anche se ti dico secondo me e questo possiamo rispondere anche alla domanda di chi ci chiedeva se la matematica è importante giusto bravo grazie ok allora secondo me si deve partire sempre da due presupposti il primo è che di base le scuole superiori formano le persone soprattutto l'ISEI ad essere pronti per qualsiasi tipo di università quindi non credo che cioè la matematica è importante sì perché secondo me più che la matematica è quello che c'è dietro la matematica che alla fine sono tutte cose di logica cioè la matematica non è una serie di formule piastate lì che ti fanno paura la matematica deve essere vista valutata considerata e approcciata come una serie di processi logici che generano poi delle operazioni e secondo me questa economia è importante molto molto non è fondamentale che la si conosca dal principio io ti ripeto faccio il classico quindi la matematica era proprio l'ultimo dei nostri pensieri eppure non ho avuto assolutamente difficoltà per quanto concerne le operazioni matematiche anche perché al primo anno si fanno pare tendenzialmente penso comunque matematica generale e si spiegano tutto hanno spiegato veramente le addizioni le sottrazioni le moltiplicazioni le divisioni come primo argomento quindi penso che poi in là te lo diano no di fatti diciamo che dipende anche dai professori che trovi però bisogna studiarla dipende anche da che economia fai se fai economia teorica fai tanta matematica difficile cioè io in magistrale ho fatto calcolo di differenziale e facevamo la stessa matematica che studi per calcolare le traiettorie dei missili perché le traiettorie dell'economia si calcolano con la stessa matematica delle traiettorie di un missile e molta economia avanzata in macroeconomia avanzata usa il calcolo differenziale che la prima volta che l'ho visto all'esame di macroeconomia che l'avevo fatto al corso di macroeconomia avanzata che l'ho fatto prima del corso di matematica vedevo queste belle equazioni con i pallini sopra le incognite le x e dicevo sarà perché hanno finito le lettere che ci mettono i pallini invece no era un differenziale era un calcolo differenziale cosa vuol dire quel pallino che ogni x è una funzione derivata quindi ogni equazione è un'equazione di derivate e dici ok devi studiarla te li impari e ti impari a cosa servono e basta poi servono per capire cose a livello teorico molto facili in realtà mi ricordo che studiavamo lavagne intere di formule per poi dire che all'aumentare del non so di una roba aumenta l'altra dici sì l'abbiamo studiato però adesso è dimostrata e faccio no vabbè ma guarda sulla fiducia mi andava benissimo lo stesso ci arrivavo a logica grazie io invece per esempio sono sempre stata super appassionata di queste dimostrazioni cioè non tanto per memorizzarle ma perché io sono il tipo di persona che ancora adesso e non scherzo mio zio mi chiama completamente folle se io devo farti una percentuale per me la cosa che nella mia testa si proietta prima una proporzione per cui tot sta 100 e poi tutti i calcoli di dopo perché per me più della formula che io non riesco ad imparare la formula per me deve essere tutto il processo logico dietro che parte dalle cose che ho fissa perché le ho fatte perché le ho studiate quindi le due o tre cose che tu fissi nell'altra testa e poi tutta la logica che ci permette di arrivare a tutti i ragionamenti del caso perciò dico non è tanto la matematica in sé non è come arrivi con che formazione matematica arrivi ma è la cosa di logica che c'è in fondo alla matematica tra le righe di tutto quello che fai in matematica no ma di fatti il bello dell'economia è la logica e di fatti perché c'è la matematica beh per due motivi uno perché appunto c'è tantissima logica in economia e la matematica è il modo più diciamo scientifico di mettere quella logica giù in maniera tale che sia comprensibile secondo perché in economia si parla principalmente di soldi e soldi sono numeri quindi non si scappa poi appunto se si fa l'economia aziendale come dicevi anche te l'economia cioè la matematica sono proporzioni sono sono formule ma abbastanza facili e se tu invece vuoi fare altro tipo di economia che è più veramente improntata la matematica è diverso ma di fatti per esempio i dottorati in economia pura principalmente vengono presi da chi ha studiato matematica e fisica più che da chi ha fatto economia perché la matematica richiesta è avanzatissima e per loro è più facile impararsi le quattro nozioni di economia che gli mancano che a chi ha fatto economia impararsi i cinque anni di matematica che hanno studiato loro e quindi per quello c'è anche un gap diciamo fra le lauree scusate i dottorati in economia e poi le lauree in economia che è un'altra cosa che volevo dire da tempo mi è stata fatta una domanda da Filippo ancora minuti e minuti fa che chiedeva lui lavora da anni da dieci anni ormai ha fatto le superiori e voleva iscriversi all'università me l'ha detto anche in un'altra live a me fa solo che piacere sta cosa e voleva iscriversi all'università adesso e chiedeva se il fatto di aver lavorato dieci anni lo può aiutare rispetto a chi invece arriva direttamente alle superiori ma che lavoro fa? è imprenditore se non ricordo male quindi comunque è un'impresa che gestisce un'impresa guarda io ti posso dire da persona che lavora che ho imparato molte delle cose che ho studiato lavorando quindi secondo me inizierai a vedere la parte teorica di cose che tu hai già assimilato lavorando perché per dirti anche quando mi confronto con mio padre mio padre non è laureato è perito elettronico quando ci confrontiamo lui ha un'impresa sua quando ci confrontiamo in cose di economia ci capiamo lui ci è arrivato per esperienza io ci sono arrivato prima perché l'ho studiato però ci capiamo è tutto quindi secondo me ci sono due vantaggi uno gestisci un'azienda sai cosa è un'azienda come si muove e quei numeri per te hanno significato perché io quando ho fatto ragioneria vedevo i bilanci ma per me non volevano dire un cazzo c'erano dei numeri su un foglio ma non capivo assolutamente il senso concreto che avevano quei numeri su un foglio e l'ho capito imparando dopo lavorando cosa volevano dire quei numeri e quanto cambino quei numeri a seconda di cosa c'è dietro quei numeri e un'altra cosa è il fatto che mi perdo con i miei discorsi santo Dio faccio queste parentesi poi mi perdo va bene se mi viene in mente vado avanti no comunque ah sì no esatto il fatto che lavorando ha a che fare con clienti con fornitori con dipendenti con colleghi hai un rapporto molto paritario e impari a comunicare con sconosciuti di cose che sai e di conoscenze in un modo diverso da uno che arriva dagli superiori quando ti presenti a un esame non hai la caga di uno studente ti presenti lì con non dico una spocchia perché non è spocchia ma ti presenti lì con un atteggiamento diverso hai meno paura anche perché sei più adulto hai davanti a te una persona che ha meno gap di età rispetto a te che può trattarti in un certo modo e tu sai come comportarti in quel modo hai meno un rapporto anche di come si dice di sudditanza nei confronti di un docente secondo me c'è un rapporto un po' diverso e affronti l'esame in maniera molto diversa non so se ai professori questa cosa piacerà però è vero però sì sì ti fai meno problema io sono d'accordissimo con te ma d'accordissimo cioè nel senso è un disagio chi invece fa il contrario cioè per quanto la stragrande maggioranza se non tutti subito finiscono e si scrivono le assietà secondo me è più brutto il disagio di apprendere tante nozioni teoriche senza vederle nel mondo pratico perché poi l'economia è una cosa veramente reale cioè nel senso non è già il diritto c'è un po' strassi che non sempre ti tocca o da vicino spesso sì ma non sempre però l'economia veramente tu potresti riscontrarla ovunque quindi tu quando inizi a studiarla e non l'hai mai valutata come tale ti senti un po' disorientato mentre invece sì se arrivi a studiare economia dopo aver lavorato tu veramente inizi a accendere tutte le lampadine che intanto avevi già posizionato e magari a non aver bisogno più di figure professionali che fino a quel momento magari ti sembravano indispensabili solo perché tu non conoscevi bene il settore ecco forse l'unico gap pensandoci un attimo mentre ti sentivo parlare è in matematica tutte le cose teoriche che quelle devi studiartene e devo dire quando lavori per tanto tempo e non studi da tanto tempo ritornare a studiare ci vuole un po' io adesso appunto ho riniziato l'università e tutto non so se sia perché sono dislessico che ma ci ho impiegato molto a riprendere i libri in mano a leggerli cioè io li leggevo finivo un capitolo e dicevo boh e dovevo rileggere più di una volta prima di entrare nella mentalità perché è un po' diverso quindi ci vuole anche un buffer in cui ti riadatti mettiamola così però insomma per il resto dovrebbe la parte più se fai aziendale e a un'azienda diciamo che ci sei più vicino ecco altra domanda che era arrivata poi scusami dimmi puoi essere a quel punto puoi veramente portare un valore aggiunto poi alla tua impresa cioè qualsiasi essa sia molto banalmente a me mi fa morire la pagina di Taffo no? ce l'hai presente? quello pompe funebri no presente ok sì cioè mi immagino questo clip magari ha un esercizio di pompe funebri ragazzi non sto scherzando sono seria cioè loro hanno delle strategie di marketing che fanno la pagina di Taffo sono meravigliose cioè in primi momenti giusti capito quindi te una volta magari ti ritrovi a studiare marketing che non hai mai fatto alle superiori e puoi portare un valore aggiunto alla tua impresa che bisogna anche per forza studiare vuol dire poi allontanarsi da quello che è tuo vuol dire portare un valore aggiunto a quello che è tuo sono d'accordissimo su questo sì no è proprio un approccio diverso ma poi ti dà anche una mentalità e anche un un accesso delle conoscenze che poi ti puoi fare tu anche per conto tuo e sai valutarle se sono valide o non valide che penso sia la cosa migliore che l'università può darti cioè saper valutare se un'informazione è valida o meno e essere critico nei confronti di qualcosa e analizzarlo una domanda che mi ha fatto Giarde 8 su no 9 madonna sono orbo e fra altre robe vorrei anche ringraziare iroxleo che mi ha aggiunto il follow su instagram su twitch però scusa non ho né notifiche né niente e me ne sono ancora reso conto ora e me l'ha fatto mezz'ora fa grazie se sei ancora qui grazie se no la rivedrai un giorno ah perfetto Filippo grazie per risposta Filippo è ringraziato che non puoi vedere i messaggi allora no ma di fatti guarda stavo pensando a un certo punto a metà live di passare a stringere cambiamo appoggio e vabbè no è brutta assista roba non lo sapevo ma guarda delusione deludendi l'ho scoperto quando siamo partiti e fine vabbè Giarde o nove non so mai se pronunciare Giarde o Giarde ma va bene chiedeva ma l'economia teorica allora può centrare con l'analisi fondamentale o no no l'economia cioè la finanza centra con allora chi studia economia teorica apprende delle conoscenze che che sono utili per l'analisi fondamentale si parla di azioni perché ti vedo un po' Ale no non avevo sentito la domanda l'analisi fondamentale allora quando si analizza un'azione ci sono due tipi di analisi che si fanno l'analisi tecnica esatto beh effettivamente tu analisi di bilancio la fai l'analisi fondamentale è più quello che sta studiando Alessandro in questo momento cioè l'analisi di bilancio e degli indici di bilancio che chi fa economia teorica la vede perché io ho fatto economia e finanza in Italia la vedi se la fai all'estero no cioè o meglio è corporate finance quindi viene fatta se tu ti prendi un indirizzo che è più indirizzato a finance e ai mercati finanziari perché quando fai finance vedi sia tutta la parte macroeconomica e micro e econometrica perché tutta l'analisi tecnica è econometria e invece l'analisi fondamentale sono proprio gli indici di bilancio e lo fai a corporate finance quindi se tu fai economia teorica senza un indirizzo finanziario non la vedi perché io dubito che i miei amici che abbiano fatto economia pura abbiano visto corporate finance in finanza invece c'è un esame proprio di di cosa come si chiama di finanza c'è proprio un esame di corporate finance in cui vedi proprio gli indici di bilancio e studi il ROS che era la Bibbia è grosso così il ROS che è appunto corporate finance sì è un attimo a confondere la teoria poi quando uno va nella pratica comunque ha bisogno di non sono così scollegati voglio dire alla fine quando fai l'analisi teorica comunque hai bisogno di la domanda è relativa all'analisi alla è legata all'analisi di un'azione e dei mercati finanziari ah ok hai bisogno di tipologie di domande perché a me fanno queste domande qua mi chiedono sempre di finanza perché non fai un corso di come guadagnare 8000 euro al giorno stando dormendo nel divano a 30 secondi non hai fatto pure tu questo corso perché sono fuffa perché io non voglio spiegare soldi alla gente vendendogli aria fritta perché ho una deontologia professionale e perché evidentemente mi schifano i soldi perché me l'hanno chiesto in molti in realtà di fare un corso di cosa vuoi che ti faccia il corso vabbè dormi e guadagni un milione io quando ero con questa carina da piante si muove la gente no esatto ecco una roba che impari facendo economia è che a studiare economia non ti serve per investire i mercati finanziari cioè ti dà delle conoscenze che ti dà le capacità per capire le cose ma poi ci devi mettere del tuo perché l'economia non è che ti insegna a prendere il tuo computerino e diventare miliardario perché se così fosse io sarei miliardario ora in questo momento probabilmente sarai in Giappone perché è lì che vorrei vivere se cagassi i soldi e farai podcast come la mia attività cosa? grazie per aver condiviso con noi questa info in questo modo in questo modo molto francese soprattutto ma no ma veramente se io fosse pieno di soldi perché ne faccio tantissimi viverei probabilmente in un anzi a Cape Town sarei in questo momento dell'anno a godermi Cape Town e farei solo podcast e creare contenuti farei live ogni sera anche se nessuno mi caga solo perché mi piace farlo quindi e non lavorerei invece invece lavoro invece ho delle bollette da pagare e ho le mie difficoltà anche io quindi l'economia vi aiuta però vi dà le basi e tutto il resto secondo me l'economia ti fa capire che è molto più complicato di quello che sembra ecco questo esatto brava studiando una laurea in economia capisci che è molto più complicato e che tutte le domande che ti fanno le persone che sembra che sia una cagata di quello di cui stai parlando non si rendono conto della complessità che c'è dietro e di tutti i meccanismi che ci sono dietro poi un'altra domanda che faccio una chiosa molto rapida che sempre Giardinove chiedeva la psicologia è interessante e basata molto sugli esperimenti è utile per l'economia sì c'è la behavioral economics che fa esattamente questo e è molto sì ti eri evidentemente perso una live che avevo fatto sulla behavioral economics Giardin in cui appunto la questione è proprio che l'economia teorica si fonda sul passato e si fonda sull'assunto magnifico che gli uomini siano razionali cosa che non è vero e quindi cioè l'economia economicus è razionale e si muove sempre per il maggior profitto in termini proprio monetari non in termini generici in realtà andando avanti con gli anni ci si è resi conto che l'uomo va sì verso più l'utilità ma l'utilità in senso ampio non solo di valuta economica di soldi che è in tasca ma anche di felicità di benessere queste cose qua che non venivano considerate nell'economia classica e che possono portarti ad essere molto più irrazionale e per quello viene fuori l'economia comportamentale o behavioral economics in cui si va a vedere tutta l'irrazionalità degli esseri umani e per esempio appunto la tesi che farò io in psicologia è legata all'irrazionalità nel decision making perché è una roba che mi piace e perché il decision making anche come lo studia è economia e l'economia aziendale è molto razionale però in realtà c'è una componente di razionalità pazzesca e una dei due componenti appunto della ricerca che facciamo è la paura e l'altro sono i bias tuoi cognitivi quindi per esempio appunto la ricerca è spaccata in due fare un decision making su persone che credono a trilia del complotto quindi hanno un bias cognitivo di un certo tipo cioè assumono che delle notizie che hanno preso sono vere e altre sono false mentre il resto del mondo dice che quelle sono false e altre sono vere andare a vedere questo appunto prendere in maniera irrazionale tutto quello che è un sistema che razionalmente direbbe altro ha un impatto sul decision making l'altro ricerche laboratorio invece è sulla paura e come la paura incide sul decision making quindi sulle decisioni che diciamo un uomo razionale cioè l'uomo economicus non ha paura perché è razionale sceglie sempre la cosa ottima in realtà noi quando scegliamo in particolare nei mercati finanziari aggiungerei o quando abbiamo ma anche nella scelta di consumo ci sono tantissime cose che esulano la razionalità tra l'altro se noi fossimo così razionali il marketing non avrebbe ragione di esistere esatto cioè esisterebbe solo la macroeconomia che ti dice guarda così ottimizziamo così ottimizziamo l'economia generale tutti faranno certamente così e faremo non esisterebbero neanche i mercati finanziari quindi diciamo che tutto è fondato sull'irrazionalità ah yard grazie me l'avevi detto anche la volta scorsa probabilmente poi non importa e quindi tutto è basato sull'irrazionalità e quindi studiare le persone facendo esperimenti come si comportano realmente con un caso reale su una scelta economica si può vedere come in realtà la gente si comporterebbe non a livello teorico ma a livello pratico infatti Jacopo ti ricordi ti avevo detto che dovevamo fare quella tesina anche noi per l'economia delle istituzioni e stavamo oggi in una fase di svolta del nostro elaborato abbiamo scoperto la teoria delle prospettive quella che è stata la premio Nobel nel 2002 e parla proprio di quello cioè di come nel processo di decisione l'individuo da un lato sia vittimo dei suoi bias cognitivi che per chi non lo sapesse è come se l'uomo fosse vittimo delle proprie autocredenze in maniera molto semplice io per esempio sono una novax ogni volta che continuo a sentire persone parlare di quante faccini passano male continuerò a valorare la mia tesi mentre non ascolterò minimamente o darò meno credito a coloro che invece magari mi parlano anche se questi riescono ad apportare documentazioni prove qualsiasi cosa valido invece alla tesi opposta alla mia quindi io continuerò a credere sempre e quindi stiamo parlando di questo processo decisionale e parliamo di Marshall dell'uomo razionale di questo razionale 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 che poi di razionale non ha niente fra il 50 e il 60 appunto che si è imposto che l'uomo fosse razionale come assunto dell'economia ma è quello che ha fatto un po' danni per certi versi per altri ha portato avanti la ricerca economica però l'ha allontanata da altri il bias cognitivo per raggiungere quello che dicevi te esattamente tu sei in una bolla in cui tutto quelli che vedi perché così funziona il cervello umano giusto per dirvelo noi riceviamo dei segnali e il nostro cervello interpreta quei segnali e quei segnali per il nostro cervello sono la realtà a un certo punto il nostro cervello non a un certo punto il nostro cervello non riesce a distinguere quello che è fisicamente reale da quello che è immaginato o meglio lo riesce a distinguere ma a livello del subconscio lo realizza cioè per lui è realtà in ogni caso quindi tanto per dire che una persona che voi crediate di voi stessi che siete brutti le persone più brutte del mondo il mondo può dirvi tutti possono dirvi che non è vero per voi è una verità oggettiva che questo lo sia perché ve ne siete convinti il vostro cervello ve lo dice e per voi è realtà e disegnate tutta la realtà torna a voi su quell'assunto se qualcuno dice qualcosa di contrario a questa cosa qui voi vedete tutte le prove a conferma della vostra tesi e non vedete quelle che la smentiscono perché perché il cervello è fatto così siamo delle scimmie molto evolute ma di fatto siamo degli animali e evidentemente per sopravvivere nella giungla quando eravamo degli animali ci serviva ora ci siamo protetti dai giaguari non abbiamo più i giaguari che ci mangiano però abbiamo quindi non abbiamo più dei threat come si dice in italiano delle minacce che sono reali ma abbiamo delle minacce che ci generiamo noi con la testa che rendiamo reali cioè quant'è che ci stressiamo per un esame che è andare a parlare con una persona di fatto però quella cosa lì e tutte le conseguenze che non esistono ancora che non sono reali diventano reali in noi generano stress come se noi vivessimo già l'outcome già quello che noi immaginiamo perché il nostro cervello a differenza dei cervelli degli altri animali rende reali i nostri pensieri e quindi quella è realtà per noi e quindi anche per chi crede nel cospirarsi theory o chi ma anche chi non crede che cospirarsi theory anch'io ho i miei bias cognitivi nelle cose che ho studiato io se tu mi dici qualcosa io lo applico a quello che ho studiato io e non avendo conoscenze aggiuntive dico ma con le conoscenze che io ho questo funziona in questo modo quando in realtà non è vero che funziona in quel modo perché mi mancano 60.000 altre cose che a me sono ignote e quindi cerco di incastrare sulle conoscenze che ho quell'informazione e i bias appunto sono il fatto del credere che tutta la conoscenza che hai e tutto quello che pensi sia la realtà vera e tutto quello che ti viene dato lo rinneghi perché tutto ciò che non è conforme alla realtà che ti sei generato lo rinneghi perché non fa parte della realtà secondo te e invece che cercare di pensare che quella cosa lì possa essere vera e quindi possa essere valida e validarla dici no per esclusione non sta nel mio schema non sta nel mio sistema non sta nella realtà che mi sono costruito quindi qualsiasi cosa quella cosa che mi vai a dire o la rileggo e ce la faccio entrare col modo in cui vedo la realtà oppure non rientra ed è una cosa finta non esiste io ho avuto una roba del genere tremendamente quando è successo il discorso delle scarpe della Lidl io non ce la potevo fare io poi ce la potevo fare no ragazzi ma io io ho studiato che l'uomo è razionale quindi secondo me boh lo stanno dicendo per far crescere ancora di più la domanda io non mi potevo convincere che le persone avessero speso quei soldi per le scarpe le avessero rivendute avessero guadagnato quelle cifre per le scarpe è il concetto di esclusività perché è un valore aggiunto che nell'utilità nella funzione di utilità dovresti aggiungere e che nell'economia razionale non viene considerato però razionalmente se tu vai a pensare all'uomo come essere biologico e psicologico cioè una persona che è di più della razionalità ma anche dei sentimenti delle emozioni tutte queste cose qui è molto diverso l'approccio che avrebbe di fatto per quello secondo me la behavioral economics a me piace tantissimo e vabbè la sostengo cioè mi piace studiarla e mi piace pensare che può cambiare il modo di approcciare l'economia proprio perché uno che studia psicologia è ovvio per lui che puoi guidare e puoi in un certo senso manipolare il suo acquisto anche se è totalmente irrazionale e l'economia non si rende conto infatti per quello fare la tradunione fra psicologia e economia secondo me aprirà molti modelli adesso è una roba recente in realtà infatti è una roba recentissima in un certo senso che se ne parla ma la psicologia come si diceva prima è sempre vista come la scienza wu wu non è vista come scienza come in realtà lo è e adesso invece è molto più applicata è anche la neuroeconomia che è l'applicazione proprio della neuropsicologia o della neuroscienza quindi proprio lo studio del cervello giusto per dare la differenza fra behavioral economics e neuroeconomia behavioral economics hai fare le cose alle persone e vedi come si comportano proprio behavior quindi comportamento neuroeconomia gli metti un casco in testa e vedi come il cervello reagisce a livello di impulsi quindi non vedi come si comporta che può essere magari anche mediato da motivi culturali per esempio in un esperimento gli esperimenti spesso le persone si comportano come tu come loro pensano che tu vuoi che si comportino che è una roba che sminchia molto gli esperimenti perché tu speri che si comportino nel modo più cioè non razionale ma nel modo più diciamo indipendente e non saprei come dirlo autonoma influenzato da altri però c'è sempre invece il fatto è una cosa molto umana della paura una delle paure che abbiamo è la paura della morte sociale che viene vista come fosse morte vera e propria quindi cerchi sempre di piacere all'altro per non morire socialmente quindi per il tuo cervelletto tu stai letteralmente morendo sempre per il discorso del rendere reali i pensieri e quindi tu dai delle risposte per dare il contentino ecco se tu metti un casco in testa vedi come il cervello reagisce quindi tu vedi la reazione prima ancora che il tuo comportamento entra in atto una roba che mi ha fatto esplodere il cervello che magari a voi non dirà un cazzo io quando ho iniziato a studiare appunto l'attenzione e le risposte del cervello ho scoperto che noi come esseri umani viviamo il mondo e la nostra vita 0,42 secondi quindi 420 millisecondi centi secondi millisecondi 420 millisecondi in ritardo la realtà cioè dopo 420 millisecondi il tuo cervello ha visto la cosa l'ha elaborata e te l'ha fatta vedere quindi noi viviamo la realtà con un lag di 0,42 secondi e questa cosa qua da giocatore che di videogiochi che in cui già il lag a 0,9 mi fa girare le balle cioè a 9 millisecondi mi fa girare le balle ho detto cavolo io vivo la realtà che è quasi mezzo secondo in ritardo rispetto a quello che è concretamente cioè noi viviamo anche quando ti tocchi tu percepisci la roba a mezzo secondo dopo di quando ti sei toccato e quello genera tantissimi bias anche nella percezione e nel comportamento umano nel fare le cose poi semplicemente parlando di economia proprio dal principio dall'economia domestica quella funzione di utilità limitata alla sopravvivenza alla fine è proprio il concetto di utilità che è un po' il frutto dei modelli che sono poi alla base delle spiegazioni dei processi decisionali cioè l'uomo perché si collega alla funzione di utilità perché si dovrebbe in qualche modo spiegare che cosa c'è alla base che fa scegliere una cosa piuttosto che un'altra ipotizzare che alla base di una scelta in ogni aspetto perché poi l'utilità riguarda ogni cosa una scelta sia sempre fatta nel pieno della razionalità è assurdo infatti io credo ma magari la sto dicendo grossa che sia frutto del fatto che si volesse necessariamente rendere l'economia una scienza una scienza esatta precisa misurabile quantificabile e il concetto di emozioni invece di emozioni o comunque di credenza di moralità era eccessivamente collegato a un aspetto percepito come inquantificato ed inquantificabile e in un certo senso la neuroeconomia ha dato degli strumenti che permettessero un po' di inquadrare le cose dentro degli standard che per gli economisti soprattutto all'epoca era impensabile non essere in un range di numeri in un range di quantificabile e di oggettivo perché poi è tutto lì se non puoi non puoi è stato fatto è fatto però è assurdo con tutto quello che abbiamo adesso anche semplicemente a livello di marketing che venga definita la funzione di utilità per una persona facendo ricorso soltanto a quello che ha il suo aspetto razionale di beneficio ma difatti il marketing è molto collegato alla psicologia e alla sociologia e alla neuroscienza molto di più cioè gli studi che ci sono dietro avevo letto uno studio facendo un essay settimane fa uno studio perché mi serviva la mancanza di percezione di quanto si usa il telefono per una ricerca che abbiamo fatto noi e ho trovato uno studio che diceva essenzialmente erano riusciti a calcolare il tuo tipo di acquisto cioè sapere che età hai in base alla velocità con cui tu fai tap e cambi da una pagina all'altra col tuo telefono quindi un'app sa grazie a questo studio può dire se i suoi utenti sono giovani o vecchi semplicemente cioè sono in un determinato range di età semplicemente da quanto tempo stanno sull'app da quanto tempo ci impiegano a fare un tap e da quanto tempo ci impiegano a fare uno swipe cioè capito non più dalla tipologia di acquisti allora ti dico ok magari razionalmente te mi puoi dire questa è una cosa che serve più a una certa età se lo recupero perché c'è da qualche parte te lo giro perché veramente mi sono rimasto così impressionato e lì colleghi appunto tutta la parte di tecnologia del cellulare che può darti tantissime informazioni con la psicologia con l'economia e tutto il resto scusate si inghiozza sì 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 no è una cosa veramente affascinante soprattutto se hai sempre studiato l'economia limitandoti a studiare dei modelli delle cose che devono per forza essere così e effettivamente mentre lo studi non te lo chiedi nemmeno perché non ci sia un aspetto irrazionale perché se lo stanno dicendo eccetera eccetera quando poi tu lo guardi un attimo da esterno ci devi fare un qualsiasi tipo di ragionamento ora vuoi proprio durare una tesina quindi tu oltre a valorare la tua tesi devi anche proporre delle computazioni però effettivamente noi di razionale abbiamo veramente 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 poco ma infatti alla fine della fiera quando un'azienda si muove fa molto di più A-B test cioè fa molti più test del comportamento dei suoi dei suoi clienti non usa le teorie di macroeconomia e company cioè il marketing la strategy usano tutte cose in opzioni che non hanno a che fare con la macroeconomia esatto c'è anche mi sono sbagliato una frase di Steve Jobs che diceva non è importante rispondere ai bisogni dei consumatori ma crearli dei nuovi forse non so se era uno Steve Jobs alla Sony so che va avanti con questa idea i giapponesi usano molto questo approccio credo che sia una stazione di Steve Jobs però può essere che sia anche l'amico Steve ed è interessante perché tu per creare dei bisogni alle persone devi conoscere profondamente quello che muove verso una stazione rispetto a un'altra ma guarda ti dico io studiando psicologia mi si è aperto un mondo anche lì uno dice psicologia ecco la roba là è identico economia tu entri e ti si apre un mondo allucinante difatti quando dico che studio psicologia mi dico ah vuoi diventare psicologo sì ma sperimentale cioè a me non interessa minimamente curare le persone mi piace cioè sono interessato al comportamento di una persona normale cioè nella nella curva gaussiana di comportamenti e c'è tantissima al di là che c'è tantissima statistica la cosa che mi ha preso tantissimo è tutta la parte di biologia dell'uomo io ero convinto prima di fare psicologia che noi avessimo molto più libero arbitrio di quello che abbiamo in realtà noi in realtà siamo molto guidati dalla nostra biologia che è quella che ci ha fatto sopravvivere evolvere fino ad oggi ma è anche quella che ci frega cioè banalmente se usiamo se una società usa una pubblicità usa un colore piuttosto che un altro ti sta manipolando senza neanche che tu lo sappia cioè ti invoglia a fare cose e tu in tuo subconscio non te ne rendi neanche in tuo conscio sicuro non te ne rendi neanche conto che ti stanno manipolando ed è perché ci sono determinati colori determinate posizioni in cui vengono messe le cose nello schermo determinati stimoli che implicitamente prima ancora che te ne rendi conto ti portano a fare un determinato pensiero o azione e questo qui tu puoi studiare la razionalità quanto vuoi ma tanto siamo sempre delle macchine biologiche che a stimoli rispondono con degli outcome e quando scopri quegli stimoli che si sanno alcuni da una vita il libero arbitro lascia il tempo che trova e perde tutta quella razionalità se manca il libero arbitro manca anche la razionalità perché puoi essere manipolato oltre al tuo decidere e a me queste cose mi fanno esplodere il cervello cioè queste cose qui mi fanno partire con 20.000 cose adesso mi stavi facendo pensare che oggi leggevo questo paper e diceva appunto che paradossalmente si potrebbe parlare di più di funzioni di utilità come lo intende la neo economia neoplastica quindi completamente priva e staccata dalle emozioni più per gli uomini primitivi ok che vivevano distinti si poteva parlare più in quel caso di utilità pura senza emozioni che oggi perché ci sono tutte queste strategie per lavorare sulle nostre percezioni delle cose sulle nostre quindi c'era tutto questo studio sull'economia domestica su come poi si è evoluta l'economia sociale eccetera eccetera e parlava di questa cosa qui dei bisogni come sono cambiati e come vengono percepiti dagli altri e come vengono influenzati dagli altri e con altri non intendo solo essere attore di un di una socialità ma proprio essere sotto un certo punto di vista bersaglio di marketing di algoritmi di tutto quello che c'è esatto e di fatti è una roba interessantissima ma pensare anche solo alla fiducia e il fatto appunto che si cerca di fedeizzare perché la fiducia è un legame molto più forte della razionalità nella scelta di un prodotto mi ricordo ancora quando stavo all'economia io facciamo marketing il nostro professore di marketing ci chiedeva come mai secondo voi la nutella è molto più venduta della crema a nocciola lind che ha una qualità molto più elevata costa più o meno uguale nonostante tutto tutti comprano una nutella che ha una qualità molto più bassa e rapporto qualità prezzo è pessimo è una questione che tu sei cresciuto con quella cavolo di nutella per te è memoria è ricordi è infanzia è abitudine e gli uomini sono molto cioè gli esseri umani fanno molta difficoltà al cambiamento quindi quando tu stai bene con una cosa anche se c'è qualcosa di meglio fuori da quella cosa tu stai bene lì perché devi cambiare per qualcosa che è anche meglio che magari non è vero e quindi non esci e quindi per esempio anche entrare in un mercato molto forte che ha una tradizione molto ampia è molto interessante riuscire a penetrare in un mercato e vedere come fare e lì come penetri di solito penetri sui più giovani perché hanno meno storicità di quel brand o meno storicità di quel prodotto ma anche soprattutto maggiore tendenza al rischio che non è una cosa indifferente perché comunque l'avversione al rischio poi è alla base anche del cioè quando io scelgo di non comprare più Nutella ma di comprare una Choco News per esempio per dirne una io mi sto assumendo il rischio che per il valore che io sto andando a pagare avrò una cosa che non mi piace e non c'è un margine di sicurezza perché cambio completamente il prodotto e quindi infatti nel marketing costa molto cioè è molto più utilizzata la tecnica di tenersi i clienti che già si hanno che di cercare di fidelizzarne o comunque di arrivare alla conoscenza del brand in persone che non lo utilizzano cioè costa proprio di più a livello aziendale investire delle risorse per attrarre nuovi clienti rispetto a tenersi ma infatti anche se vai guardare tutte le strategie di marketing che vengono date anche alle piccole e medie imprese sono quelle di lavorare sulla fideizzazione molto più che sull'acquisizione cioè quando tu hai raggiunto un certo limite di clienti dici ok certo numero non limite ok tu hai raggiunto questi mungili più che puoi tutti quelli che arrivano dopo grasso che cola secondo me lascia un po' il tempo che trovo appunto perché io mi sono trovato a lavorare in multinazionali in cui cercavano continuamente di spingere il loro prodotto ai consumatori invece che capire quello che i consumatori volevano e a dire guarda questi millennials non capiscono un cazzo di quello che facciamo invece che dire non stiamo capendo di noi i millennial e dobbiamo capirli loro sono i nostri acquirenti noi dobbiamo vendere a loro e quindi siamo noi che dobbiamo andare incontro a loro e non il contrario sai per sé è un discorso che potevamo fare più prima quando l'offerta era quantitativamente inferiore allora tu puoi tenere degli standard delle pretese delle ma con una concorrenza e una quantità in generale ampissima di ogni cosa perché se oggi semplicemente se ti vuoi comprare queste cioè puoi trovarne di ogni tipo che sono le cuffie bluetooth di ogni tipo di ogni prezzo di ogni quindi c'è proprio devi stare attento a arrivare a nuove persone devi stare attento a tenerti quelle che ti rivolgono perché poi se ne vanno non tornano perché ci sono tantissime alternative a prezzi inferiori a parità di prezzo poi vabbè ovviamente il reddito è disponibile quello che ti porta più a un'aspetta che un altro è tutto un altro discorso però comunque se perdi un cliente te lo sei giocato davvero esatto e poi anche l'effetto l'altra roba che si studia è che l'effetto di un recensione negativo o di un effetto negativo che un tuo prodotto ha su un cliente è molto maggiore di quanto uno positivo ne ha cioè se uno ha un'esperienza negativa con te solitamente lo dice a dieci persone se uno ha un'esperienza positiva lo dice a una che è un po' il problema del mio podcast perché è un podcast bellissimo non ha problemi nessuno ne parla male ma nessuno ne parla neanche bene no sto scherzando a farle ricazzate però ma però è difficile crescere quando è un buon prodotto perché una persona parla di qualcosa di bello a una persona cioè in proporzione ovviamente non è propriamente così rispetto a quando una roba ti va male lo dice a tutto il mondo effettivamente se il tren in Italia non va se l'aereo non mi parte e mi girano i maroni io lo scrivo su Facebook a caratteri cubitali lo scrivo su Instagram faccio le story le live quello che vuoi se invece tutti i giorni ho delle esperienze positive di consumo o di qualsiasi cosa mi dico beh mi sembra che grazie fate il vostro lavoro cioè deve essere una roba eccezionale che io vado a dire e comunque lo dico a chi a chi mi sta vicino a due o tre amici dico guarda sta roba qua figata infatti guarda poco fa perché stavamo parlando di un dobbiamo portare un case study su un brand di gelati e praticamente loro dopo tantissime lotte contro il mercato non contro per insomma dimostrare che loro cercavano di utilizzare un mercato eco solidale chilometro più basso possibile tutta una serie di impegni sociali che si prendevano era uscito un articolo in cui si diceva che loro probabilmente avevano una piccolissima quantità di quelle cose che danno alle mucche per crescere per produrre più latte sì ok e quindi antibiotici non ho idea no c'era un RGBH mi sembra se non sbaglio comunque c'era una piccolissima percentuale che tra l'altro era proprio una misura che l'uomo non l'avrebbe d'addenziato per niente se avrebbe dovuto mangiare qualcosa come i 3000 gelati al dorno perché fosse dannosa per la sua quantità per la sua salute quella quantità che l'ha trovata nonostante questo questo articolo ha avuto un boom cioè è arrivato a tantissime persone tantissime persone sono rimaste deluse dal fatto che il brand avesse questa roba maggiore al fatto che il brand si fosse sempre pubblicizzato per la sua politica di utilizzare sempre ingredienti che provenivano da fonti guidate dai valori addirittura parlavano di mucche felici di galline felici per dire allora ho presente e quindi niente loro per un po' di tempo hanno dovuto fare quello che è marketing è proprio sparire dalla circolazione altrimenti avrebbero perso ancora più clienti e quindi tipo hanno avuto un periodo di stop nessuno ci deve più vedere nessuno ci deve più sentire devono dimenticare di noi di questo scandalo ma di fatti è una questione molto umana se vogliamo il fatto che noi siamo molto bravi a criticare molto più difficile elogiare è molto più facile criticare e allontanare piuttosto che avvicinarsi perché è una questione di fiducia in primis e anche di paura c'è una paura che è abbastanza umana e sentita soprattutto nell'alimentare se pensi ai bambini se pensi a robe basta che tu dici anche una mezza verità o una falsità non è importante che sia una falsa nel dubbio è una merda nel dubbio ci stai distante nel dubbio eviti come l'olio di palma come tutto se tu segui chi parla in maniera scientifica di queste cose ti dice tutte le cose fanno male in eccesso se ti contieni le cose non fanno male perché fanno male ma è perché eccedi bene se tu però dici quell'ingrediente è molto semplicistico ed è molto utile per le persone avere delle formule se ha allora b e quindi in quelle situazioni là il cervello che ha bisogno di semplicità è molto più facile per lui allontanare perché ha bisogno anche cerca di proteggersi ti butta la paura irrazionalità e ti allontana e ti denigra quindi è veramente difficile creare appunto rapporti di e come dice giustamente Francesca do il commento di Francesca qui su su Twitch che diceva che dice appunto che infatti la strategia per promuovere i prodotti fra le più importanti è quella del word of mouth quindi appunto del passaparola che è fondamentale fra le più efficaci ed è vero anche io nel mio piccolo anche il podcast è cresciuto per passaparola più che per altre cose ma come tante altre cose sono cresciute per passaparola e il passaparola è difficile anche perché basta veramente come dicevamo in questo momento un errore e ciao e tutta la tua reputazione è saltata e prima di ricostruirla ci vuole tanto tempo questa parola è difficile anche e soprattutto secondo me perché come dicevi tu prima se io ho una brutta esperienza io ci tengo a farlo sapere cioè se io vado in un ristorante e pago molto manzo male o personale scortese io ci tengo che tutti lo sappiano per diciamo in qualche modo penso che il meccanismo che mi si scatini dentro è una sorta di protezione no proprio vendetta se non mi hai fatto questo revenge è un sentimento forte negli uomini io ti pago a prescindere perché devo però tu non solo non vedrai più me ma non vedrai più tutte le persone che attraverso me possono avere questo feedback ma c'è anche l'invidia posso dirti non succede guarda lavoravo per un'agenzia di animazione loro addirittura davano delle percentuali per le recensioni positive che si otteneva immagino ma posso dire anche che nel mondo del content creation non so se l'hai già sperimentato ma anche un'altra cosa che incide molto è l'invidia cioè ci sono tante cose che ti fanno ti fanno sentire come se ci fosse un threat cioè una minaccia che sia una minaccia a quello che stai facendo una minaccia a te una minaccia alla tua persona al tuo status sociale ti porta al revenge ti porta al non sopportare cioè io penso anche al content creation chi va molto bene come influencer chi va molto bene come creatore di contenuti chi altro crea contenuti e non riesce ad avere lo stesso successo raramente lo spinge perché dice lui fa cagare però ha tutti quei numeri perché ha culo no evidentemente è stato bravo però c'è lo vedo anch'io con alcuni che fanno contenuti come i miei che dico mi stanno sui coglioni perché loro hanno bene io no ed è una roba umana lo acknowledge quindi lo riconosco e poi dico no però sono bravi che cazzo c'è da dire e poi sono partiti molto ci sono tante altre cose perché non parlarne però umanamente tenderesti a denigrare a non parlarne per valorare te stesso o per altre cose io invece personalmente ma sarà che ho quella vittima quella vittima quella sindrome se non sbaglio si chiama la sindrome dell'impostore per cui se fai una cosa che è tutto merito degli altri della fortuna del caso di qualsiasi cosa mentre se fai una cosa che va male è tutta colpa tua beh io invece talmente altissima amo tantissimo chi fa informazione prima mi devo creare il mio rapporto con quella persona nel senso devo verificare tutto quello che dice dopo che ho verificato uno due tre post ma proprio anche per ogni virgola scritta allora dico ok si tu sei degno della mia stima e allora ci sono da oggi in poi io ti seguo e infatti vabbè questo petto lo volevo dire in privato ma adesso te lo dico qui davanti a tutti venerdì nove sì partirà un format secondo me dove cercherò di raccogliere i contenuti di tantissimi professionisti da dottori commercialisti a persone che si occupano di analisi qualsiasi marketing tutto e ci saranno dei contenuti ovviamente che devono rispecchiare quello che è lo spirito di Economai quindi quale cosa pensi che tutti dovrebbero sapere ma magari non la sanno magari si fanno spesso questa domanda quindi il principio è quello e ovviamente se vuoi sei invitato con il tuo contenuto poi dico qui davanti a tutti io ti non mi puoi rifiutare io credo sempre se li tu tutto mi non mi stanno basta e facciamo un venerdì in più con Jacopo no ma guarda ti dico la parte venerdì santo poi fra l'altro no ma la questione è quello che sto cercando di fare anch'io per quello che ti ho invitato perché mi piace poi coinvolgere altre persone e fare poi io anch'io ho la mia selezione di vari creatori contenuti di cui poi io parlo sempre a chi seguo cioè al di là di per me Breaking Italy è la mia fonte di informazione in Italia perché a me Shai piace molto e siamo molto affini a molte cose poi vabbè c'è Barbascura che io vorrei essere Barbascura cioè veramente io amo vorrei essere lui cavolo cioè creare veramente contenuti come li fa lui e poi vabbè c'è Dario Bressanini che ormai è un faro cioè come per dire lì è dove si deve arrivare nella divulgazione però in realtà mi piacerebbe molto più lo stile di Barbascura però per dire loro sono delle persone che conosco da cui non so se mi sono ispirato ma sicuramente mi hanno influenzato in quello che faccio e loro li consiglierei di essere ascoltati sempre perché sono grandissimi creatori di contenuti oltre che divulgatori di cose fatte bene perché c'è il metodo che dietro che mi piace c'è il metodo YouPay è veramente Instagram cioè Instagram comunque Instagram come Spotify come Twitch sono sono stavento da quanto possono essere utili nel senso che io mi rendo conto che noi per creare un contenuto dobbiamo andare a cercare da libri da paper da pubblicazioni da cioè veramente è un lavoraccio e tu poi porti in pagina un post che magari è apparentemente semplicissimo porti una puntata che apparentemente ti sta permettendo di spiegare una cosa quasi in maniera elementare ma tutto quello che c'è dietro cioè per le persone secondo me quello che fanno i divulgatori è un veramente una fonte ricca infatti Instagram se ci stai sentendo io voglio assolutamente la funzione per cui io posso cercare sul profilo di una persona una roba cioè io faccio ricerca ecco se ecco è di fatti il grandissimo limite di Instagram poi chiudiamo anche la serata ma il grandissimo limite di Instagram secondo me è proprio quello che sono dei prodotti che consumi subito e poi li perdi per esempio io ho fatto dei video in cui parlo di video sì certo video che parlo di video video in cui parlo di libri da leggere consiglio di libri da leggere e sono persi cioè la gente non li recupera più non li vede non è che non li recupera non li vede non sa che ci sono perché devi fare lo step aggiuntivo dell'andare al mio profilo nei video del IGTV di Instagram TV e lì c'è i miei video dovresti guardarteli ho tantissime live là dentro fra i primi video c'è anche i libri in cui consiglio libri da leggere tu non hai idea di quante volte a settimana ricevo un messaggio di qualcuno che mi dice per l'economia da che libro dovrei partire e dico ho fatto un video apposto per evitare di rispondere a questa domanda che mi arriva ogni settimana eppure non è visibile e poi la colpa non è loro perché non posso pretendere vado a vedersi tutto però proprio Instagram come è fatto sempre più contenuti quindi sarà sempre più difficile più invisibile esatto mentre YouTube da questo punto di vista è fatto meglio cioè è più facile recuperare le cose e anche video vecchi è più facile che emergano e vengono visti cioè ho video di anni fa fatti con altri contenuti che sono più visti oggi di una volta cioè io non capisco come è possibile che ancora non facciano questa funzione di ricerca ma è troppo importante perché loro è loro proprio l'obiettivo loro è proprio la loro filosofia è un contenuto che si è fatto sull'immediatezza che è un problema ecco vedi infatti se di B61 si ha scritto le storie in evidenza potrebbero essere una soluzione hai ragionissima io tipo per esempio nel corso del tempo ho capito che nel mondo del lavoro Excel è una roba importantissima e siccome non creo contenuti per Excel ho una cartella in evidenza dove magari ho inserito qualche pubblicazione interessante qualche profilo interessante cioè nonostante resterà visibile a tutti per il momento perché c'è solo quella storia in evidenza ma se un giorno volessi fare una storia in evidenza con tutti i gatti io ho iniziato ad apprezzare l'evidenza e rendermene conto solo recentemente dove ho messo tutte le effettivamente dovrei utilizzarla meglio perché all'inizio le avevo buttate là erano anche bruttissime adesso le ho messe le iconcine che sono anche più belline che attirano anche un po' di più magari le persone a vederle ed effettivamente ha senso perché magari le domande che ho fatto le lascio là e uno se vuole vedere le domande che ho fatto e vuole rispondermi a quelle domande le ritrova se voglio effettivamente tutti i miei vari video perché sulle storie dalle storie puoi rimandare un video e basta fare una storie che rimanda il video e quindi te la metti nelle evidenze e ti fai la storie che ti rimanda il video e il video è là e anzi grazie stè perché mi faccio sicuro una storie o oggi o domani a sto punto in cui dico se volete sapere un libro da cui partire prendere questo se volete altri libri cliccate sul link là sopra fa tu il video apposta non ce l'ho mai pensato grazie ho chi mi segue che mi dice a me come dovrei fare il creatore di contenuti che vi ringrazio perché io a queste cose qua non ci penso neanche sono pensato al contenuto ma non ho come deliberarlo e a tutte le potenzialità delle piattaforme su cui sono c'è una signora che si occupa di risorse umane e lei tipo penso che almeno dieci volte al giorno continua a ripetere che dà consigli sul curriculum che non va fatto il curriculum con l'Europass ma che va fatto con quella l'Europass fa schifo lo dico anch'io ok lei dice sempre questa roba sai quante domande al giorno poverina le arrivano da punto di vista dei creatori secondo me è una cosa un po' frustrante ma che cavolo quando non mi ascoltate però non è colpa delle persone perché le persone non sono nemmeno che tu ce l'hai quel contenuto nella tua pagina perché non ti chiami come fare il curriculum capito no no di fatti ultimamente quando ricevo domande di roba che ho già detto cerco in modo cortese di rimandare al contenuto e di dire guarda se altre domande ulteriori a quello che ho già detto sono qua se no ascoltati quello perché ho già risposto non ha senso che ti prendiamo tutti i due tempo per una roba in cui è che è già là però no è vero è vero una lista degli argomenti non affabetici così non ti manco il dubbio no esatto sarebbe bello una ricerca effettivamente all'interno ma anche per hashtag uno mette gli hashtag dentro e se li trova per esempio comunque poi yard9 mi fa vabbè Jacopo io comunque ho 16 anni cerco ancora sono ancora superiori per l'università c'è tempo hai ragionissima c'è tempo io a 16 anni volevo fare penso ingegneria e ero deciso fra ingegneria e astronomia e perché fisica la facevo ancora poco poi ho cambiato idea perché a me fisica faceva schifissimo e ho scelto un'università che avesse matematica ma non fisica questo è uno dei criteri di scelta di economia ok io non rispondo perché potrei essere imbarazzante rispetto alla tua risposta mi piaceva far non ce l'ho adesso è presente il codice il codice non più che si chiama il QR code bravo c'è più o meno che te ha la carta bravo che te alla cassa vai e fai suonare io voglio fare la premessa solo perché amavo questa cosa che se tu passavi una roba sentivi il rumore di quella cosa e questo tornando ai discorsi di prima della psicologia dell'uomo è perché è umano quando tu hai un fai un'azione e ricevi una reazione che è immediata e la puoi percepire come un senso di quello che hai fatto il tuo cervello rilascia degli ormoni di soddisfazione e quindi per te è soddisfacentissimo perché ti senti causa di quella cosa ed è il metodo per cui tutti i social funzionano e tutte le varie app funzionano perché hai un ritorno immediato e come ti cioè tu non te ne rendi conto ma implicitamente ti stanno manipolando vedi a fare la cammella la commessa ti diverti perché vai pi 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 bellissimo difatti beh qua in Inghilterra ci sono le macchinette automatiche io vado sempre in quelle automatiche mi faccio io il pi pi quindi sì guarda quando le prime tipo a Rimini c'era una parte con la cassa però tendenzialmente ti consigliavano di andare lì solo se avevi pochi prodotti e invece proprio quando ne avevo tanti mi divertivo di più perché l'era tutta una bellissima meravigliosa comunque comunque io direi che abbiamo parlato per due ore cos'è che c'è è un po' come giocare a pong è un po' come giocare a pong pong però è più difficile devo dire come tavola pong cavolo poi richiami cose veramente del del commodore 64 ok cosa volevo dire beh direi che abbiamo fatto due ore e cinque minuti che sono stati secondo me molto interessanti mi è molto piaciuto mi sono molto divertito grazie anche per i contributi peccato per non lo riutilizzerò mai più ve lo prometto restream peccato che appunto non potevo farli vedere a schermo perché è bello anche che voi vediate i vostri commenti e insomma anche altri li vedano se non non li leggono dalla chat e anche per chi passerà dopo lo vedrà indifferita non li devo leggere io ma li se li può leggere vabbè faremo così comunque io voglio ricordarvi che mercoledì questo volevo fare un esperimento cioè guardarci un film assieme in cui non lo facciamo su Twitch non ancora perlomeno lo facciamo con partendo da da cosa ma che cavolo si chiama da una chiamata a Google Meet o di questo tipo e facciamo una sorta di cineforum vediamo quanta gente viene io non mi aspetto tantissima gente ma vediamo quanta gente viene ed è semplicemente una serata da passare assieme i lockdown non prendetela come Jacopo mi insegna le cose e guardiamo un film che magari ha una relazione in economia e ne parliamo un po' tutti come fosse un cineforum e vediamo come va proprio un esperimento mercoledì sera facciamo sempre alle 9 così è un orario classico e vediamo sta cosa poi se funziona se va mi sono reso conto che su Twitch si possono mettere i film della Prime so che mi avete consigliato di provare usare WPN ma secondo me viene un casino però potrei hai già scelto il film? no personalmente ne ho in mente un po' devo pensare a che film fare e questa è un po' un'idea adesso ci penso un attimo se avete idee di film anzi mandatemle così vediamo perché non vorrei fare gli inflazionatissimi The Big Short Una poltrona per due Inside Job queste cose qua perché per esempio anche The Founder che è quello del coso di McDonald's potrebbe essere un'idea è sempre Economia è la fondazione della società o anche quello lì di cazzo si chiama di Facebook com'è che si chiamava? o c'è anche quello di Steve Job comunque sono legati a personaggi che hanno fatto delle imprese di un certo tipo economiche no non la registro la cosa di mercoledì è proprio una chiamata fra di noi di fatti non è pubblica quindi ci vediamo tutti e facciamo una chiacchierata a tutti non è una cosa in cui cosa? lezione orario sarai? alle 9 mercoledì l'orario ce l'ho mercoledì alle 9 mercoledì perché è qui distante fra un'eventuale live della domenica e una del venerdì così non vi stufate troppo avete dei giorni di buffer in cui non mi vedete comunque no non la registro perché ci sono altre persone c'è la privacy di altri e viene fatto veramente voglio scegliere un film di cui non ho i copyright quindi ce lo guardiamo proprio come se fosse a casa perché appunto se lo dovessi mettere su Twitch dovrei avere i copyright o comunque dovrebbero concedermelo e di conseguenza scegliamo proprio un film a buffo e quindi non la registro ecco vedi bellissimo The Founder l'ho visto molte volte vedi sembra un bel film ecco io non l'ho visto ed è fra quelli che potrei scegliere fra le altre robe su Twitch quindi se funziona e se va si potrebbe fare su Twitch mi fa piacere che è un'iniziativa molto figa sì di fatto è una roba che penso da tantissimo ma in realtà anche da molto prima di fare i creatori contenuti mi sarebbe piaciuto farlo anni fa ora che un po' di gente con cui poterlo fare mi piacebbe farlo e magari The Founder che quello lo si può vedere effettivamente tramite Twitch perché c'è il party with your team o quel cavolo come si chiama quello di possiamo vedere tutti insieme su Twitch quando girerà però questo mercoledì che è ancora una roba sperimentale vediamo come va boh vediamo qualcosa soprattutto perché non posso esserci quindi magari gli altri invece potremmo farli che si possono recuperare e vediamo poi sarà solo visibile su Twitch credo perché YouTube sicuramente non me lo fa non me lo fa mettere su vi avviso già che avevo fatto una live in cui avevo fatto vedere un video sull'esperimento quello del marshmallow c'era una canzone che era protetta dal copyright YouTube mi ha tolto la monetizzazione come se monetizzasse mi ha tolto praticamente praticamente mi ha messo la pubblicità che io di solito non ho perché non monetizzo l'ha messa con quelli del proprietario della canzone mentre Twitch non mi ha fatto un suo autor di coglioni quindi se mette un film figurati YouTube cosa dice e quindi no volevo fare questa cosa qua che era una roba che mi era notta in mente l'avevo detta più volte adesso volevo concretizzarla un attimo poi come sempre a me mi ascoltate ogni mercoledì con una nuova puntata di podcast che questa settimana vorrei parlare di NFT devo ancora studiarla devo ancora registrare ma si fa tutto e venerdì prossimo c'è sempre la live come ogni venerdì anche se è venerdì santo non so se è venerdì santo volete seguirvi la via crucis però insomma potremmo fare anche una via crucis dell'economia è un po' questa volta l'economia e poi domenica è pasqua lunedì è pasquetta e quindi vi lascio liberi e comunque ci aggiorniamo sempre sul gruppo di Telegram per tutte le varie cose grazie mille grazie mille soprattutto grazie mille Alessandra per questa sera per la compagnia io veramente possiamo farle anche più frequentemente una volta ogni tot che ci vediamo e parliamo di cose a me fa piacere basta che me lo dici con un preavviso un po' diverso da quello di stavolta certo la programmiamo meglio di dirti dal venerdì alla domenica venerdì si parla di tasse via crucis è bellissima non ci avevo pensato guarda che secondo me devi prenderla su serio fra l'altro grazie mille perché effettivamente devo fare la live con la mia amica commercialista che ha una serie di domande fra quelle tantissime di tasse da fare con lei e quindi volentierissimo potremmo fare se lei è libera e non ha il venerdì santo impegnato si potrebbe fare la live con la mia amica commercialista così rispondo a tutte quelle domande numerose che ho ricevuto negli anni negli anni no nei mesi però sicuro relative a dichiarazioni di redditi partite IVA tasse varie e queste cose qua è un argomento bello caldo no esatto che tutti mi chiedono dico guardate non sono un esperto io mi avvalgo anche della sua collaborazione quando faccio le puntate facciamo una live in cui parla lei gli fate domande lei è contentissima lei si diverte a me fanno schifo sti temi lei si diverte quindi facciamoli con lei che anch'io prendo le sue l'economia non è no ma io di fatti tutti quando mi dicevano commercialista no commercialista no perché no commercialista perché mi fanno cagare le tasse cioè a me la parte fiscale la roba che adesso mi sono dovuto comunque imparare le robe per seguire anche i miei clienti e comunque per riuscire a gestire un commercialista per arrangiarmi ne so di cose però guarda le tasse mi fanno cagare grazie a dio mi avvalgo sempre bellissima in una puntata di Economia Polpette su Spotify quale puntata scusami perché ti ho parlato il numero però parlavi appunto della tassazione era beh ne ho fatta un po' sulle tasse c'era una cioè l'ho fatta la prima era un mondo senza tasse da lì ho iniziato poi a costruire tutto un lore dietro ho tutta una storia dietro al mondo di Paperopoli che aggiungono tasse costantemente dal niente tasse dalla flat tax niente tasse quindi abbiamo parlato del come si chiamano dei paesi come si chiamano dei paesi fiscali e poi della tassa progressiva devo ancora parlare delle tasse quella troppo simpatica che io veramente ti adoro per quanto riesco veramente a rendere cose semplicissime è quella dei paradisi fiscali ecco le domande di quel tipo ecco fatemi più domande concettuali di questo tipo che non hanno una risposta ovvia ma mi permettono di tirar fuori quel cazzo che voglio io nel senso che posso lavorarci sopra ed è più rispetto a rispondere a una domanda secca del che cosa è una criptovaluta che apre un mondo interessantissimo però è molto specifica di fatti anche cos'è che avevo fatto recentemente ah sì se stampassimo tanta moneta anche quella lì è più concettuale e da lì si va a capire proprio dal pragmatico del se stampassimo tanta moneta ti colleghi indietro a capire la teoria economica che ti dice perché stampare tanta moneta non ha senso e quindi colleghi le due cose che era un po' la cosa bella che volevo fare poi io devo anche chiedervi scusa perché ultimamente sono estremamente stanco e mi sto ascoltando anch'io le puntate le riascolto dopo e mi sento che sono giù di tono quindi scusate anche se la qualità dei contenuti non è come vorrei io sicuramente ma non è neanche al top di quello che posso dare è stato un periodaccio preparo veramente le puntate nel giro di pochissimo tempo mentre prima le preparavo intanto e mi scuso di questo e si sente la differenza quindi non vedo l'ora di riuscire a riorganizzarmi a poter dare dei contenuti fatti bene costrutturati bene e basta grazie per questa sera grazie a te veramente mi sono divertito un botto e abbiamo detto tante cose e beh io sono un logoroico e anche con con problemi di deficit di attenzione quindi figurati se non faccio partire il mio cervello con altri cassetti della storia dell'economia o di altro bene grazie mille per avermi ascoltato ma su twitch penso che farò il ride a qualcuno non lo so siete nove volete vedere videogiochi vi sparo di videogiochi ciao ragazzi alla prossima tonatega al monitor adesso mangio che ho una fame boia devo ancora cenare ciao ciao alla prossima ciao ciao ciao